Ho tutto quello che serve nella borsa Ferdi K sopra il mio collo tra i coglioni due ferri Oddio, ho gli occhi di tutti addosso Puta punta, il mio pesce vuole quello più grosso Ah, stronzo se vuoi il fuoco dillo pure Abbiamo 10 a K sotto queste cinture Mi conosco quella faccia perché tu non batti chiodo Guarda un po' sono il martello, questa è l'ironia del gioco Spingo forte sopra questa tizia Finte facce da cattivi, giuro viaggio a fisti Meglio ancora sia gli scarsi, mi odiano, si svegliano eleganti Dentro una cassa di morgano Conto soldi dei contatti, su una Supra Maxi Anche tu il sicuro conti, sì però solo gli schiaffi Vuota di contanti, verdi, viola, gialli Ci scrivo una H, nel frattempo gli ho rifatti Amme, ridano le pute nel locale Amme, ecco chi ti manda al funerale Amme, l'unico di cui ti puoi fidare Amme, non bestarmi i piedi o ti fai male Amme, ridano le pute nel locale Amme, ecco chi ti manda al funerale Amme, l'unico di cui ti puoi fidare Amme, non bestarmi i piedi o ti fai male Ho le palle di tre chili cabron Pervezzè che sono come Bygon Voglio tutto sì dimmi perché no Why not? Sto nel club ed inizia lo show Ma non è che sono forte, il livello che è ridicolo E non è che vado forte, sei tu sopra un trapicco Di sporchi e ferri lucidi, stand up come ludacris Fumo grammi di butto, ci sta la faccia di stili uridi Guarda caso sti falliti, vogliono vedermi appeso La corona brilla d'oro, ma dell'oro ha pure il peso Tu non è che sei difficile, secondo me sei leso Gente seria a drogarmi, situazioni sempre peso Birri vogliono ogni culo perché stanno sempre dietro Gli darei la merda pure se scappassi solo in retro Amici compro case d'auto con gli spiccioli qui in tasca Se non hai capito il nome, per favore, zitto e basta Ti danno le pute nel locale Amme, ecco chi ti manda al funerale Amme, l'unico di cui ti puoi fidare Amme, non vestarmi i piedi o ti fai male Amme, guidano le pute nel locale Amme, ecco chi ti manda al funerale Amme, l'unico di cui ti puoi fidare Amme, non vestarmi i piedi o ti fai male Amme, guidano le pute nel locale Amme, ecco chi ti manda al funerale Amme, l'unico di cui ti puoi fidare Amme, non vestarmi i piedi o ti fai male Amme, guidano le pute nel locale Amme, ecco chi ti manda al funerale L'unico di cui ti puoi fidare Non vestarmi i piedi o ti fai male Come si deve Finalmente sulla versione 4 di Grau City V4 voi come state che mi dite Dino come stai Che mi racconti bello Check radio Check radio Ecco fratello dove sei fratello Sono svegliato adesso Sto cazzo di Bunkalow Ancora più Bunkalow Fredda la chiappe Chiappa fresca Chiappe chiacchierata tu E io fresca Chiappe chiacchierata Buona serata Povera Molto bene Molto bene Tu vuoi parlare con me? Dove cazzo Essere voi? Adesso venire Per mettere Bunkalow Brava Guardate che stile ragazzi Questo cappotto Vi piace Mamma mia Come ho messo Una mod grafica Della madonna Andreu Come stai? Che mi dici? Testa brutta Vedere da lontano Testa di cazzo Iaiaia Vedere anche palle Di testa di cazzo Da lontano E tu E che schifo Madonna Che schifo Ti va Ti va E che è da una Testa di cazzo Tutti stronti Perfetto Così incominciavo a capire qualcosa Certo Calma Non vi preoccupate Ragazzi Adesso inizierà la bomba E inizieremo di nuovo A essere in tanti E faremo di nuovo Er botto Come ci meritiamo Non vuoi solo entrare Nella storia di Grau Tu finito di fare paltoria? Paltoria di un cazzo Ah ho fatto paltoria con cazzo? No con pica? Sempre Sempre Le spadaccini Tienesti Bello mio Grazie per like Ecco Fratello non sapere fare benzina Strana Strana Tutte le sere fare benzina Ci va un'ora E guarda Diminuire il tempo Tire qualcosa per diminuire E guarda Do te la sta mettendo Te la sta mettendo nell'orecchio Chi? Lui tutti scemi Perché mette il benzina Finestrino Ti sta facendo sturo duro Con pompa di benzina Marconi Grazie per like Condivisione bellezza Come stai Marco? Che mi dici? Ciao Valeriu Buonasera bellezza Siamo cari che ragazzi Scusate il ritardo Stasera avevo Una riunione di una dioce ribato Che sarà sabato prossimo E sinceramente mi sono Mi sono un attimo perso In bene le parole Non volevo mancare Per rispetto dei miei amici Però non potevo mancare a voi Quindi sono poi scappato via Deve venire subito da voi Oh cazzo non aprire tettuccio Valeriu Grazie per il like Cele Grazie per la condivisione Dai amori miei Sfondiamo sotto Stas Stas Stortata Sto like Condivisione Spendere poco Voglio vedere iperativi Stasera anche nei commenti Dalla potere più di 100 Pieno di 100 Ti amo Comprare macchine Io? No 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 Cento comprare macchine Forse 70 bacchine Li parcheggiate davanti a l'anno 45 Io ho una piccola idea Ho fatto Io ho una piccola idea Proprietario sai chi E spero di non sbagliarmi Zilaz Di nuovo Ok ok Che idea ti sei fatto Lino Che idea ti sei fatto Anche centro commerciale Ya ya Arabo Che idea vi siete fatti ragazzi Tania Grazie per il like Benvenuto Cara Come va? Buonasera Meccanico? Va veloce sta macchina No medico Guarda quante macchine qua fuori Guarda fratello Mai visto così Io un concessionario Hai letto l'annuncio? Ecco perché Hai letto l'annuncio? Ah ya Regalare allora Autopiano Buonasera Buonasera Maria Antonietta Come stai? Ciao Tania Come va ragazze? Che mi dite? Come va regalare macchine Noi regalare macchine loro O loro noi Ya? Hanno poca pazienza Buonasera 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 Come va? Buonasera Siamo incontrati A un chioschetto Di mangiare avanti a due giorni A un primo giorno Centro commerciale Centro commerciale Ah anche al centro commerciale Scusi Come sta? Che ci fa qui di pello e compramacchina? No vabbè è un discorso un po' complesso Io sono l'amministratore delegato della Grau Corporation Lasista Grau Grau Corporation Grau Grau ha detto il signore Grau Vediamo se in casa posso Oh cazzo Aspetta un attimo Può venire con me un secondo? Quindi lei fa cerare molti soldi? Diciamo che Un po' Un discorso complicato Io Sapete Io vengo da Un'altra Sarete voi Un'altra Aspetta un secondo Per la gente che Un'altra Scusate potete abbassare Leggermente la voce Per cortesia C'è data visiera Ah si certo Sì Grazie Grazie Molto gentile E far passare il fratello Grant Tec Vieni Oh signor compelata Buonasera 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 A donna quanta luce Oh Whisky Whisky Io prendo il bicchiere Ok Certo Aspetta Faccia pure come preferisce Se vuole Se vuole Glielo offro io Grazie signor Molto cittile Molto cittile Molto buono Sempre aspetto a che assaggiare Noi signori Avere Un po' di progetti Per questa città Stavamo Un pochino studiando Bene Vari attività commerciali È venuto È venuto dalla persona giusta Signora Certo Affari Prima di tutto Signore Stavamo un pochino Un pochino Giusto dire così Capendo In questa città Dove venite voi signori Scusate Dove venite Svizzera signore Ne capite di soldi Diciamo che noi Avere sempre maneggiato Molti soldi Essere persone Che aver fatto girare Economia di molti posti Molte città Ok Eh sì Diciamo che Più o meno Penso che abbiamo Lo stesso background Lavorativo Io Come le dicevo Sono stato inviato Qui dalla mia holding Perché Era Stato studiato Un pochettino La crescita demografica Di questa città E Di previsione Avevamo Insomma I miei dirigenti Avevano pensato Di investire Dei fondi Per E Rispecchia in pieno Come sono nella realtà Marcone Di questa holding Bella domanda E spero che ne fate altre Ragazzi Perché l'interazione Con noi è importante Mi piacerebbe Come eravate prima Che mi scrivete Tantissimi messaggi Bella Andreone Ciao bello Come stai? Grazie Anzi a lei Diciamo che L'Itea Strettamente commerciale E finanziaria Ok Tutto quello che riguarda Il commercio E la finanza Signore Sta parlando con la persona giusta Adesso io Avrei da proporre Questa Questa cosa Un pochino Come spiegare Tra commercialisti E varie Persone che muovono I miei capitali Che sono Investitori Esatto Tu vuoi whisky? No no grazie Grazie Potere fumare qua? Stare convincere Se per caso Riesco a far spostare Grandi somme Di denaro In questa città Se riesco Un progetto Dove mi piacerebbe Molto parlare Poi bene Con lei A quattro occhi Per proporre Mia strategia Di marketing Per Alcune Moste finanziarie Per cambio Tenaro Molto bene Molto bene Sì sì Noi siamo Come dire Umi di mondo Ne abbiamo visti Di tutti i colori Quello che Noi ci teniamo Ovviamente È portare in alto Il nome della Grau Corporation È occupato ragazzi Ed è Perché si vede così chiaro Questa qui La mia missione Io ci tengo Sono una persona Molto ambiziosa Nella vita Bene Questa sera Non mi voglio fermare A fare La mia strategia Io voglio Portare in alto Per portare Ragazzi Stare sentendo Con la moglie Augurone Andreone Ragazzi Lo spam In chat Di auguri Andreone Per questi 13 anni Di galera Quando si cate Da in alto Poi è molto più grave Ma devono riuscire A arrivarci Lassù A prendermi Cattere per inciappare Imperfisti Imperfisti Diciamo che Non stiamo Nel monopoli Signore Diciamo che Quello che siamo Noi È una specie Di assicurazione Per non far Cascare Nessuno dall'alto Di per chi Ha molti soldi Ecco Ah ok 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 Siamo assolutamente Interessati a qualsiasi Tipo di investimento Signor Hans Schnauzer Signore Ok Posso chiamare Hans Hans Loro sono i miei fratelli Lui è Eric E lui 8 Piacere Eric Piacere 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 Lei è una pronuncia Veramente eccezionale Devo dire Ci sono Grazie Grazie E 25 catena GG Un'ipotesi Un'ipotesi Come dico Chi può giocare Porsa Simile Noi Siamo a guardare Soldi I nostri clienti Interessante Interessante Per questo Detto di caduta Noi siamo Come se fossimo Sì Carmen C'è qualche altro Sotto C'è qualche altra Cosa sotto Sicuramente Non avete visto Nelle altre storie Cioè È qualcosa di Comune Alle altre storie Però Un pochino Fatto diverso Noi col tempo Capiriamo Tutto Facile Soldi Nel caso Quando ci incontreremo Se posso portare Anche il mio avvocato Sarà sicuramente Interessato Il mio commercialista Sarà sicuramente Interessato A partecipare All'incontro Noi anche Parlare con Il nostro commercialista Per trasferimento Soldi Che cazzo Essere qui dentro Tutto buio Ah io non Non mangiare C'è la sola Perfino Io mangiare Gli eracchiali Sì sì No è Cazzo di zuccheri Grazie grazie Ciao Comunque Noi anche Parlare con Commercialisti Noi parlare Trasferimento Soldi Svizzeri A chi Molto interessante Sì sì Io ho noto Un grande potenziale Come dire Qui In qualora Allora No A chi A chi La lingua Loro Come Qua Qui 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 Quelli Poco Poi Insegno Qui Qua Ma è un'altro Ma è un'altra cosa Quella cartola animato Però c'era zio paperone Attenzione Che era Quella Poi Zio paperone Vi ricordate Noi più soldi Di zio paperone Oh cazzo C'avete pure Il primo dollaro Di merda Che cazzo fai Oh cazzo fai Si è presa la bottiglia Si è presa la bottiglia Ah fratello A te Ma perché Siamo chiamando A me A me Scusi un secondo Su telefono Pronto Pronto Oh pronto Si sentire Cina Sei tu Molto 612 612 Arrivare Mi ti ha 5 secondi Che arrivo Perfetto Arrivo Tra poco Grazie Problematica Icon 23 Tu poter Però Cosa 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 Molto interessante Madonna Che civico Ha detto Guarda Quarto Fratello Quella Molto Pene Molto Pene Perché Tutto No Come Detto Civico 612 Grazie A tra poco 612 Raga Ricordatevi Sapete che io C'ho la memoria Di un cricetonaro Amer in questo V4 Sei sempre Principe Penso che Con la maschera Saremo di nuovo Amer Voi che dite Lucone Buonasera a te Bello Ad Alto Telecamera Sopra Abbassare Tutto Madonna Mia Io Tu poter Riproduzione Musicale Madonna Guarda qua E più Altra cosa Forse La più Interessante Ragazzi È Richiesta Di Pink Pink Se vai Nelle Applicazioni Trovi Pink Tu inserire Il nome Del tuo Amico Ogni Due Tre Minuti Come si Vede Chiaro Qua Dentro Interessante Il garage Personale Per Machina Per Richiamare Machina È uno Deve Grazie Ragazzi Grazie Che me Lo Solo Fighe Buonasera Matteo Questa Belletta Luca Andre Maria Grazie Per I like Tania Matteo Valerio Grazie Impostata Forza 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 Dovete Fare Spingere Questo Canale Ragazzi Stiamo Dormendo Molto Utile Cellulare Questa Città Lui Giocare In borsa Su App Lui Comprare App Voi Venter E Quale Business L'app Per Giocare In Borsa Non Funzionare A quanto Ne so Io Non Vado Io Le dò Un consiglio Signore Se posso Per adesso Non Sinfonia Cellulare Lei Ha già Aperto Conto Bancario Per quanto Riguarda Attività No Ancora No Ma non Devo essere Io Occuparmene Siamo i vari Direttori Che se ne Occupano Io Ripeto Gistisco Solamente La holding Ok Questo Posso Di Chi essere Il direttore Il direttore Qui Il signor Gregory House Ok Poi Lei Me lo può Presentare Sì Sì Certamente Ma comunque Potete parlare Io Ho la delega Lo so Non arrivano le modifiche Vedi che siamo in 20 Invece che in 50 Come sempre Sì 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 Notify Si è dato alla venta di auto Adesso io Signore Devo andare Che ho un impegno Importante Ma benissimo Io poi passerò Quando avrò Tutto sistemato E avrò Tutta l'idea chiara Di quello che dovrò fare Passerò qui da lei Contiamo di essere i primi Da cui le passerà Noi consiglieri che abbiamo Svariate attività Nella nostra holding Ottimo Ottimo Io aver conosciuto Quasi i proprietari Di tutte Attività aperte In questa città E ho fatto un bel discorso Penso che le persone Valcano molto Questo Questo posto Quindi va bene Ok Io consiglieri che Quando si tratta Perfetto Noi consiglieri che Quando si tratta di Noi abbiamo Questo Abbiamo Bravo Bravo Matti grazie per il like Io da Marcone Di Stefano Grazie mille ragazzi Benvenuti a tutti Scrivete tutti quanti In chat Ragazzi per cortesia Punto E su Scrivete Sì 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 Hanno fatto Un bel lavoro Ottimo Però io avrò bisogno Di direttore Di ogni posto Eh ok Poi vi invito In un posto Io Parlerò direttamente Con lei Essendo amministratore Delecato E lei Mi porterà Tutti quanti In un posto Dove io farò Un briefing Veloce Con i miei fratelli Presenteremo Il nostro progetto Benissimo Va benissimo Signor Hans Ultima cosa Ultima cosa Per il letto Un annuncio Sì è vero Che macchina Se posso Venga con me Venga con me Ma cosa ti fai Regalare che noi Possiamo comprare Questo posto No infatti Infatti volevo Chiedere È possibile Prendere Piccolo Fuoristrada Per il sconto Eh sugli sconti Signore Non siamo purtroppo Autorizzati Ok ok Va bene È stato un piacere Signor Silas Lei è una persona Molto interessante Ci sentiremo Molto presto Ma anche lei Ha messo una Il zang Arrivederci Signore Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo Oppi per Come il nome Signore Scusi Il zang No lui Io silas Non l'altro Altro Cazzo Tec 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 Arrivederci Signor tec Stato un piacere Grazie Grazie per il whisky E la prossima volta Non offre più whisky A questo qua Che si poi Si prende bottiglia No Arrivederci Già chi è Che regalare macchina Arrivederci Signore Manca una bottiglia Dalla solo Non vivo Offredersi 8 3 a tema Fratelli Fino un attimo come Ora far cambiare Veloce Viagra solo un secondo quarto A me in questa v4 Cosa pensi di fare Farai le stesse cose Che Farsi regalare tutto No no Stiamo un po' cambiando Marco Spettando un po' cambiando Sessantamilotto La riposta Cantare via prima che picchio Io fratello Picchio Picchio Anno facendo Quanto Pile Picchio Ventre Potiglia Ventre Potiglia Ventre Quanto Tu stare Ricogionendo E' un Comandato Questa Questa Macchina Per noi Venti Quarto Arroyce Che Pale Costelucci Troppo Chiara Troppo Sucuro Tiglia Io Ma Macchina C'è una Un alcolizzato E' l'altro Impugnato Con la fica Madonna Meggifica Cosa Macchina Chiusa Come cazzo Ho fatto Entrare Poi Ma che cazzo Non hai chiuso Niente Un briacone Del cazzo Vai a 6-1-2 Per piacere Tu puoi stare Partiglia No Guida Dai Dai Io Per Per E' Si A te Arrestare No Guarda Guarda che Schi Quando fa Meno Di Ciccrati Io Per Un pochettino L'altro Ho bisogno Di una Info Da parte Vostra Questa è una Cosa seria Che vi voglio Chiedere Il fatto Di parlare Questo tedesco Vi da fastidio Cioè vi annoia O continuiamo a ruolarla Su questa linea guida Cioè parlare Molto tedesco Così Oppure cercare Di imparare Tra virgolette La lingua Quindi stando Più in città L'accento Scemerà Molto di più E poi Da arrivare A parlare Normale Con la nostra Parlata normale O vi piace Così Questa è una Info Che per me È molto importante Se riuscite a darmela Voglio Voglio inquadrare Più o meno Tutto quanto Sempre in base A quello che decidete Anche voi Di fare Perché lo facciamo Sempre insieme Fratello Fratello Anzi Ancora Non ho volato Da finestrino A fare pollare Noi Far vedere Cos'è Quindi farai Marcone Marcone Vedetevi Cosa succede Adesso State qua Guardatevi Cosa succede Adesso Diciamo Che La legalità E l'illegalità Sono due cose Che possono andare Di pari passo Ma Te l'ho detto Ragazzi Anche se sto Un po' Tappando le ali Continuo a parlare Così Tedesco Mi piace Mi piace davvero Allora vado avanti Così Eh raga Io pensavo Che vi stufasse Un pochino Il fatto del tedesco Parlato un po' Forzato Allora ho detto Boh Magari piano piano Tornerò a parlare Con la mia voce normale Però se vi piace Buonasera signore Salve salve Buonasera signora Potete gentilmente smontare Tutte le armi Quello che avete addosso Di che cazzo Siamo armi Ma noia Come facciamo a smontare Non avere davvero Io controllare Io Mish Ah una bottiglia Ah è vero Ah che arma bianca Scusi Io ho buttato terra Buttiglia Mi sente Sì Io ho anche arma bianca Ok Lasci tutto dentro Per favore Ah dentro la macchina Ok ok Sì Mentre tutto quanto dentro Le macchine E cofano Cofano Ragazzi aperto Posso chiedere poi Ma pistole Già pendi Da città Non sarei chiedere a me Spegnere Io spegnere Ha accettato Ha accettato Le buttate No Non servire Non servire Non servire Buonasera Non mi metteva Non mi metteva Non mi metteva Questa non mi sembra Giusta Accoglienza Signore Questa è gentile Accoglienza Affidate di me Signore Mettere mani Attosso a me No 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 Good Se no Sono io Sono io Vuoi chiedere Spegnere Il razzo mio E spegnere Nel segmento Ci sta Che parli tedesco Per ora Ovviamente Col tempo Parlerai non male Cerca solo Di non parlare Non farlo Tanto è molto tempo Questo è il mio pensiero Ah ok Ok va bene Va bene Prendiamo nota Sto logando Ti aspettiamo Adesso Un attimo Un incontro Perché hai due Contagni Di una persona Un motopelle Un motopelle Un motopelle Che cazzo Capiamo fare qua Cazzo Questa persona Qua Questa 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 Che cosa Vorrebbe dire Buona Buona giornata Buonasera 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 Signora Con chi abbiamo L'onore di parlare Poco interessante Quello signore Mi interessa Sapere Chi abbiamo Davanti Mi hanno parlato Molto Di un tizio Arrivato In città Amante Dell'alto Business Esatto Signore Sono io Mi chiamo Hans Schnauzer E questi Sono i miei fratelli Eric Eric Piacere 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 Allora Invece Noi Siamo Un gruppo Andre Grazie per il like Andrea Conferione Andrea Mario Lo metti Matti Grazie per il like Ragazzi Pusciamo Forte Poi di live Dai Siamo tornati Grazie Però lavoriamo sotto Una persona Molto importante E volevamo capire Un attimo Con chi Abbiamo a che fare Chi entra in città Persone un po' Diverse Che hanno Mentalità Diversa E il nostro capo Vuole sentire Con chi Ha a che fare Vette signore Noi Ci occupiamo Principalmente Di far Di investimenti Di far crescere I capitali Della città Sì Questo l'hanno Sentito Qualcuno Che ci ha Riferito Noi Prevalentemente Ci occupiamo Di Finanza Abbiamo Arriviamo Da altre città Dove abbiamo Alzato nettamente La finanza Di posti Che ci sono Quello che piacerebbe Noi fare qua È un progetto Molto interessante Che abbiamo Studiato Molto a lungo Io Avere già Parlato Con Praticamente 80% Di proprietari Di queste attività Di città In questi giorni E penso Che sono persone Che hanno Abbastanza guadagno Ma le manca Un piccolo Salto Per mettere A sicuro I propri capitali Ed avere Un alzamento Dei propri Guadagni E di C'è in gioco La nostra Idea Bene 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 Signor Hans Quindi Potremmo avere Davanti A noi Persone Che possono Farci comodo Molto comodo Signore Mi racconti Un po' Meglio Questa idea Venga Facciamo due passi Esatto Andrei Grazie per il like Fabio No Chi è Fabio Sì Fabio Grazie per il like Fratellone mio Benvenuto E come stai Questa porta di merda Una volta si apriva Vabbè Parliamo qui Signore Vede C'è il mare C'è tutto Vada Andate signori Andate giù Fine se lei resti Allora Si può fumare La sigaretta qua Ad offrire Certo Dove avete comprato In porti Signori Bene Bene E lì Oh grazie Accendo Poi accendo Presto accendino Ok Ciao Faccio accendino Perfetto Ottimo Ottimo Allora signore Siccome che La nostra più che È una buona Penso A parte una buona idea Sicuramente Una strategia di mercato Molto funzionale Che si mette bene Al servizio Di attività commerciali Al momento Signore Lei fa un casino Pestiale Praticamente La nostra proposta È Cercare di far Pulire Solti Inlecali Trasformare in soldi Puliti e legali Tramite un passaggio Di alta finanza Online Capisce? No Perché detto così Signore Non capirebbe Manco Non lo so Le spie che romano Lei sa Non parlare ancora bene Vostra lingua Lo sa benissimo Con chi abbiamo a che fare No? Abbiamo a che fare Spesso con gente Che è Un po' Raccomandabile A lingua adeguata Se lei non spiega bene Buonasera Andrea Quindi dobbiamo un attimo Spiegare Quello che lei vuole fare Ma mettiamo A disposizione Se qualora Questa cosa Ci possa interessare Ya Allora io Spiegare Molto meglio In tutto dettaglio La situazione Che noi abbiamo studiato Allora Lei signore Detiene del denaro sporco No? I soldi falsi Come fa A farli diventare E puliti Certo Labbiamo soldi Puliamo soldi E poi investiamo Certo Ok Questa è un po' L'idea principale Lavorare su questo denaro Soldo sporco Andrà Noi Come le posso dire Istruiremo Proprietari Di alcune Attività legali Che noi abbiamo Già Preso contatti Quelle che lavorano Di più chiaramente Che hanno Un bacino di utenza Migliore Per poter fare Questo passaggio Andremo lì Da loro Le parleremo E le diremo Di poter Far finta Nei grossi Pacamenti Di far Ricevere soldi Per ricevere soldi Soldo sporco Ok A quel punto Quel soldo sporco Verrà un contatto Con noi Noi porteremo Attività legale Proprietario di attività legale Da un gruppo di persone Che conosciamo Che trasferiscono Che trasferiscono Questo tenaro Direttamente in bitcoin Criptovalute Conosce Conosco Conosco Sì Ok Poi a noi Servirebbe Un posto Ad esempio Una banca Per fare questo Dove Depisiteremo Tutti i bitcoin E con un Facino di utenza Molto grande Di denaro Fare diventare Questi bitcoin Soldi puliti Perché essere Cosa legale E Riscuotere Denaro pulito Capisce? Tutto questo Con una Tutto questo Con una macia Ok Finanziaria E guadagnando Anche delle percentuali Sopraccambio Capisce? Quindi lei Prenderebbe Un'attività Legale La trasformerebbe In pulizia Di denaro E la pulizia Di denaro Viene tramutata In una Bannata Bitcoin Giusto? Esatto E le altre attività Che cosa guadagnano? Oh grande costo Il cambio In denaro Sarà Alto in una percentuale No? Il discorso Magari Non ho spiegato Molto bene Fratello Ma il discorso Vale per tutte Attività di città O meglio Forse migliori Attività di città L'ho detto L'ho detto Quindi voi dite Che Praticamente Ogni attività Ha accesso A questo tipo Di Business Tutte quelle Che vorranno Farne parte Signore Magari Magari Tasche Meno 5.000 puliti Ma più 10.000 Sporchi Che verranno Cambiati In Bitcoin Quei Bitcoin Ritorneranno I soldi puliti Nuovamente Invece che 10.000 Daranno 8.000 Perché ci sarà Percentuale di cambio E lei Dai 5.000 Che ha tirato fuori Se ne ritroverà 13.000 Interessante E voi Vorreste Prendere Un'attività E cominciare A contattare Attività A sua volta A cercare Di spiegare Questo Come cazzo Intendete fare Esatto Io avrei Già fatto Incontri In tutte Attività Commerciali Per cercare Di capire Chi erano I proprietari Proponendo Loro Degli affari Che loro Solo con mia parola Hanno accettato Di voler avere Colloquio verbale Con me Però io avrei Bisogno Di un Bell'ufficio E di una banca Per fare questo Perché è l'unico Posto dove Rimanere Nell'ombra Per cambiare Bitcoin In soldi Interessante Signore Eric Buonasera Bello Come stai Aldo Grazie di like I soldi In maniera Legale No Esatto Discreta Anonima Sì Non daremo Modo A svegli Di poter Dubitare Un cazzo Di niente No Bravissimo Proprio questa Idea mia Riciclare soldi Per attività Noi avere Fatto queste cose Già In passato E non avere Mai fatto Un giorno Di calera Parattiso Fiscale Ma hai sentito Parlare In svizzera La vogliamo Tutti così Sì 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 Puoi dare possibilità Che Trocato Fare rapina Soldi Non buttare No Ma io poter fidare Di tre uomini Come voi Venuti da un paese Lontano Per fare questo Sì Sì Assolutamente Signore Questo è Colui che Dichiara Sentenza Ma voi Avete già Avuto a che fare Con gente Come me O come noi Noi arriviamo Dal gruppo Criminale Di alta criminalità Signore Bene Bene Allora Facciamo una cosa Che vi mettiamo Alla prova Signor Anza Va bene Non fitto l'ora Signore Perfetto L'accompagno In un posto Che potrà gestire È un posto Che abbiamo Comprato Messo lì E ancora Nessuno È in grado Di poter Lavorarci Al suo interno Bene L'apprezzo Signore È un posto Molto importante L'essere La banca Più grossa Della città Pensa di essere In grado Di fare questo È il mio mestiere Signore Oltre Ad essere Sempre stato Test di Criminalità Organizzata Con i miei fratelli All'estero Perfetto Si ricordi Che mia pistola Essere giudice Supremo Non ce ne sarà Bisogno Signore Lei si troverà Molto bene Con noi Perché fare affari È portare Molto guadagno Affari Essere unica Cosa che conta Per noi Beh Ottimo Queste sono parole Sa come mai Che cosa succede Quando i miei affari Vengono intoccati Signore Succede che Molto Spesso La mia ira Precede Quella che poi Chiamo ansia L'ansia Si trasforma In delirio Delirio Diventa Ogni potenza E ogni potenza Mi ha fatto Sterminare Già una città Noi signori Siamo persone Molto precise Non procureremo Né ansia Né ira Siamo persone Abituate A lavorare Con molta personalità Nell'ombra Dove affari Diventano soldi Molti soldi Nel giro Di poco tempo Perfetto Perfetto Allora Io ho parlato In prima persona Perché va freddo Ma diciamo che Essere il mio capo Quello che decide tutto Però Mi ha detto Di mettervi alla prova Perché ha già sentito Buone parole Su di voi Quindi Adesso vi accompagniamo In un posto Va bene? Va bene signora Perfetto Tra l'altro Tra l'altro Un gioiellino Come quello Che lei Hai in mano Dove posso trovare? Ecco Tra l'altro Calutti in zucchero Calutti in zucchero È venuto quanto signore? Allora Li vale subito Allora Subito Tra l'altro Buonasera Signor Come sta? Bene tutto a posto Tutto bene La ringrazio per avermi presentato Questa persona Tranquillo Tranquillo Quali affari Affari il nostro pane? E affari essere un po' Pane di tutti Sempre solo se fatti pene Signore Sempre Sempre Se fatti pene Possono portare qualcosa di buono Se fatti male Si rischia È solto È solto Mio nonno Sa che dice signore Che dice signore? Più la colta è lunga Più l'aquillone vuole in alto Questo ottimo proverbio Cinese giusto? Sì Non voglio confondare Cinese 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 Un po' cinese Un po' tutto Perciò cattolino questo Eh? Io che? Cinese Sare sempre state persone Molto sagili Scusate per ombrello Ma un sacco di cappiani qua Cappiani Cappiani Comunque cacare il testo a me È sicuro Perché loro Plendele pescili in male Ya ya Per questi giocattoli Come fare? Questi giocattoli Chiedele Al signore Con cui stavate parlando prima E vedele cosa a dire Ok, grazie Io che serve una pistola Ragazzi Eh, aspettate un attimo Aspettate che rientrano le signore E io allontanare Certo, certo Molto bella ciacchetta Grazie Grazie E sale stile Stile cinese Ya, molto bella Mi piacere tanto Stile cinese Grazie Grazie Ok Scusate Ogni tanto Parte brocca Ha un problema Allora Allora Cinese Mettiamo tutti E partiamo Perfetto Perfetto Le stavo chiedendo signore Un attimo Prima che lei avesse Calotti zuccheri Con il gioiellino Che aveva in mano destra Come fare A procurarcene qualcuno Quando arriveranno carichi Sarete informati Perfetto Perfetto Bene Certo Andiamo Andiamo Posso prendere macchina mia Signore Eh sì Seguiteci Venga Venga Dalle alma Ragazzi andiamo Bella Ema Grazie per il like Quello mio Benvenuto Come stiamo ragazzi Tutto a posto Ma lui secondo me Tira fuori fumo Perché fa freddo Non lo so Fratello Pista macchina Dietro RX7 Importazione Matita Matita Molto veloce Tu se non la smetti Ti impallinarti Con le macchine Prima o poi Ti taglio la lingua Allora fai così Insegnare cosa Per perdonare Muscoletto Formuletta 10 Guarda che Ficata assurda Poi muscoletto Infio Fallo Bello Molto pello No? Fine ma è molto pello Sì Ya ya Prendo il cottello Da co Forse ora Uomo coppalle Eh Questo signor Hai visto che bella Scena Lino Hai capito un pochino Come andrà la cosa Adesso più o meno Ci sono svelate un po' le cose Molto diversa Allora PNV Vero Non è V8 Quello lì Più lenta DC A me sembra Molto più scattante MC Ya Ya Tetesco Come vi è sembrata la nostra proposta Molto buono Molto buono Molto buono Nostra tuve Sempre grande parlare Che signore mi sembra persona molto Importante Di città Utilicente Utilicente Molto Molto Bravo Ho finito a pensina Dopo passare a rubare Mercedes Noia Non bisogna far arrabbiare questo signore Bisogna fare cose fatte bene per adesso Cercare di capire Suo scala di importanza Quanto conta Lo devo venire Eh un attimo Ghost Stiamo facendo una scena Comunicata Adesso macchina senza pensino Ma macchina vera pensino adesso Certo Piena Piena pensino Tetto io Eh Inizia a entrare Fatti un giro Ghost E poi entra in radio 200 Che poi ci sentiamo in radio 200 Ci dovrebbe essere già Yoda dentro Vediamo sto posto dove ci sta portando E poi Vi chiamerò C'è 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 Qua si sta facendo All'inizio Yoda Buongiorno Vieni a prendermi in spiaggia dove eravamo ieri Eh sono dal Messagno E' Noi 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 E' Entra passare parecchio parecchio lì anche a me i battiti batti strutto proprio parla normale vai su escopzioni e vedi devi alzare texture budget ma non penso no non penso che sia buona che no non è capito che sia piccola vedo ok ok allora ok ho pensato che fosse già in problema lì capito quindi appesantire ancora di più avrebbe aggravato si può crescere comunque anche io lì in quel pezzo 40 fatti ti è mai fatti in vita mia 40 fatti 28 ma vedete anche io ecco che troia ai 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 spagliato dove 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 andata a piedi facciamo 75 sì sì ma ancora non riesco a capire i tuoi ragazzi cosa faranno eh come cosa faranno adesso poi capirai meglio ma c'è questa banca fratello molto grande molto grande questo è un rettificio enorme oh fratello fratello per quella cosa che abbiamo detto guarda 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 in alto cartellone mettere lì nostra foto enorme yeah che piccata sarebbe dobbiamo chiedere se è possibile fare ecco il trattore è la pacifica andrea è la pacifica è la pacifica raga oh ah tu già contento fa bello eh bella è già contento già contento già contento ah ah molto bene non ti panko qua 2,3,4,8 panko oh guarda qua che bello 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 signori venite la gandola voglio essere una prona qua sotto eh essere c'è una persona e ha visto anche la faccia di due ragazzi nostri signori forse forse ha visto anche la faccia di due dei nostri guardate che figata di posto ragazzi ci sta assegnando la pacifica stiamo capendo anche è enorme è enorme è enorme è enorme questa frustrazione è enorme ancora pancomat adesso uscire poi ok si porca puttana va bene volevo farvi vedere uffici ma porta chiusa molto bello molto bello le piace molto si per se per se per se per se Tutto chiuso Ma che asso essere possibile? Non faccia domande Non faccia niente di asertato Va bene signore, allora Passiamo voce Questo essere il posto di cui le parlavo Le può interessare un posto del genere? È proprio quello che fa a caso nostro signore Ok, qui potrà far partire investimenti Ma questi bit, come ha detto lei Bitcoin Saranno spendibili? Bit non sono spendibili Bit dare a banca E noi tramite sistema informatico Dare i dollar Dare i soldi Dare i dollar Ah, quindi praticamente lei cambia soldi Sporchi I soldi sporchi Saranno tramutati in bit I bit verranno consegnati in banca E in banca le daranno i soldi puliti Giusto? Esatto Questo è il procedimento Questo è il procedimento Ma questi soldi sporchi E chi saranno cambiati? Solti sporchi e attività legali Quindi attività legali Daranno bit E loro verranno da lei O da banca E cambieranno questi soldi E lei li pulirà Esatto Così almeno il giro è perfetto Cosa ne pensa signore? Mi piace signore Essere un modo Abbastanza astuto Di coprire tracce di criminalità Non crede? Proprio questo era mio intento Di fare una pulizia soldi In modo legale Bene bene Mi piace lei signor Anza Allora ascolti Faccia modo di Di sistemare la pratica In questa banca Le saranno poi Verrà qualcuno Che le attiverà Tutte le stanze Le darà le chiavi Le darà tutto Va bene Va bene Va bene Lei manderà poi Architetto Anderò poi Architetto Certo Appena questo È stato completato Parleremo di una cosa Un po' internos Va bene signore Va bene Magari nei prossimi giorni Ci incontriamo Che dice? Io sono A sua disposizione signore Stiamo arrivando Ho un'idea Però voglio vedere Un attimo E' da Alessandro Savino Grazie per il like Ragazzi Potreste essere Persone adatte Per mia idea Però non le nascondo Che sarà Un qualcosa Di lusco Signore Un qualcosa Di criminale Capisce? E non avere paura Noi essere persone adatte Signore Come le ho già detto Siamo sempre stati A capo di famiglie Di criminalità Molto grandi Grazie a te Ricorda? Bene bene Questa cosa Può essere Molto utile Perché stiamo Cercando delle persone Che gestiscono Un piccolo Giro di affari Di alcune famiglie Che cresce Per cominciare A farle lavorare E se a quest'essere Una città nuova Abbiamo bisogno Di gente Che collabori Con noi Il signor V Ha bisogno Di persone Che si può fidare Le dico Adesso Dirle Si può fidare Di noi Sarebbe quello Che direbbe Chiunque Noi le diremo Ci metta Alla prova E poi vedrà Perfetto Perfetto Mi piace Signor Hans Signor Otto Come si chiamava lei Eric Eric Sapete il fatto vostro Adesso Come si dice Tradire e fare C'è di mezzo mare Vediamo Come inizia Questa situazione Qui Cerchiamo di far Girare le cose Perché Molto presto Soldi Buonasera Alessandro Come stai Bellumio Tutto bene L'intera città Esatto Dovremmo essere preparati Per nascondere Tutto E cambiare La criminalità Questa cosa Fargli Fare soldi Essere importante Dove c'è Tenaro Dove ci sono affari Che funzionano Funziona tutto il resto Signore Perfetto Allora Con il tempo Noi avere palle Ma anche testa Molto Non mi devi ringraziare Sono io che ti ringrazio Visto che mi vengo Ma inizia Grazie Andre Bisogna dimostrare Siete voi Senza di voi Io non sarei niente Non ci sarei neanche qua Ragazzi Diciamo che questo È un primo passo Io bene Bene Ale Sono stato A una rignonella Di una dioce di batte Mi sono scolato Una birretta Al volo E lui E siamo subito Tornati qua Bene Bene Piano piano signore Va bene? Siamo Perfetto Allora signor Hans Mi prendo il suo numero Allora Li faccio Passaggio con Airtrop Ok Che cazzo vuol dire? Molto comodo Chiamata Chiamata Suggeriti E uscire Telefono Fratello Manda E' arrivato a me Sì Arrivato a me Puoi dare lui Il mio nome Spostati Perfetto Passo Suggerite C'è già Mio nome E cognome Con numero di telefono Signore Sala 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 Lo sali tutto Lo sali tutto Perfetto Salato Faccio anche lei Se vuole Sì Proviamo Va Lei tiri fuori telefono Poi tira C'utentina Dall'alto Dove c'è Più o meno Fotocamera Tira verso basso C'è Focus Legge focus Sì Ok Ha già fatto Sì Gliel'ho mandato Aspetti Passare telefono E mettere Non cliccare focus Signore Signore dovrebbe cliccare Quella specifica Ok Ah posso Uscita Ok perfetto Grazie Ora chiudere telefono Fratello E riprire di nuovo Provare sul cerito Salato Salato Perfetto Signore Salato Salato Io uso svariati nomi Signore Quindi non ci faccia caso Visto Visto Non c'è problema Signore A me interessa Il numero di telefono Non ho chi essere Noi usiamo Rubbiamo Telefoni Facciamo caso Di testa Di Testa di legno Ja Capito Com'è La nostra problematica Dare anche a noi Questo metodo In Svizzera Bene Va bene Signori Vi lascio andare A vostri affari Benvenuti Benvenuti In questa nuova Avventura Di affari Investimenti E Tante cose A volte non belle Che vi Troverete a dover passare Va bene Siamo pronti Signore Ma potrete puntare Sul fatto Che vi potrete Arricchire No Esatto Esatto Noi già Essere molto ricchi Ma noi piace investire Tenaro Per far diventare Sempre più grande Investimento Perfetto Va bene Signor Hans È stato un piacere Conoscerla Piacere mio Signore Non so il suo nome Ma è un piacere mio Mi chiamano Roman Piacere Signor Roman Piacere Signore Piacere Piacere Signore Piacere Piacere Ci vediamo Prossimamente Che le racconterò Un'altra cosa Un altro piano Va bene Va bene Va bene Perfetto Noi attentiamo Con ansia Alla signori Arrivederci A Fidersen A Fidersen A Fidersen A Fidersen Noi rimanere qui un attimo Che avete A Fidersen Noi rimanere qui un attimo Molto bella Ora ce ne andiamo Arrivederci A Fidersen A Fidersen Provate Sì Io intanto faccio Uno squill Architetto Grazie Grazie Arrivederci A Fidersen Bella palca Molto bello Location che immaginavamo No fratello Iaia molto recale Molto Molto Signorile Signorile Ragazzi vi piace Guardate che bello Vedi Questo essere L'ufficio No Questa è il nostro primo cliente Dove stai Guarda Era con lui ragazzi A vera prima Con Demis Primo cliente Quale Quello in più Quello in più Vedi Sta depositando soldi In nostra banca In nostra banca Noi dobbiamo Noi dobbiamo venire qua Fare conto in banca Tutte le attività legali Per il nostro Secondo scopo Se le cose Dovesse andare male Capito Iaia Dover tenere sotto occhio Tutti Conti bancari Di varie attività Iaiaiaia Schetteremo tutti Per E te Dobbiamo capire Sempre Chi Lavora bene Chi lavora male In base a Guardare i loro Conti correnti Per quello che io Volere Che tutti Aprire il conto Corrente In nostra banca Dovranno essere Obbligati Tutti quelli Che vogliono Fare questo tipo Di affare Con noi Ah se no Io Ancora Per questo Aspetta Non uscire poi Ragazzi Ma i ragazzi Distrati Ce l'hai vato Dessa casa Colore Molto Molto No vero No per più Faccio diventare Molto Fittimo Focco Locale Che non Per conto Da parte Ultimo Azzazzata Che cazzo Peve In corto Iaiaia Ma Ma Anche Alito Io Vettere Lucchetto Qua 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 Lucchetto V Via Via Lucchetto Pallocchetto Iaiaia Tutti Iaiaia Qua Lucchetto Aspetta Io Voglero Scegliere Poi procurare Agenti sicurezza Ah fratello Perché qui Poi Oh Molto bello Questo ufficio Questo ufficio Molto bello Dovremmo trovarci Un ufficio Ragazzi Io Voglio volere Quello lì Centrale Molto grande Sapevo già Sapevo già Che tra i tuoi coglioni Tu sei sempre la testa Di cazzo E vuoi stare sempre a centro Ragazzi amici tuoi Ragazzi amici tuoi Fare Eta I cazzi Buonanotte Ugo Grazie di essere passato Però non hai lasciato il like Ugo Io ti spezzo il dito Il pollice Lo spezzo Schiaccia il like A te schiamare A te schiamare le persone Aver sentito il radio Ci siete il radio 200 Prima che finissimo qui Sì Aver appena chiuso io Adesso Sentire il radio Dove stanno ora cazzo E entrare a parlare con loro Ciao Ciao Io dobbio Mi ho con la tua Come ti chiamare Io lo voglio aiutare Come si chiamava io Da già France Dove è Axe France Mi ho con la tua Signor France Se le Gretel Eccolo Mi sente Dove sei Dove sei Alle venire Vieni in Pacific Ma volere chiamare Chi te to ora O domani Domani mattina Ma pomeriggio Ma no ora Come cazzo fare Appunto appunto Infatti dicevo Domani pomeriggio O mattina Ma tu meglio no Sì Fettiamo qua Facciamo sistemare tutto Quanto per bene Sì Cosicchiamo anche Quello stronzo Che dalla Germania Ancora le nostre macchine Non essere ripatte Esatto Chiamiamo un portatore Di macchine Chiamiamo anche Cazzo di architetto Che io avrei comprato Anche ufficio Ah Molto bello Quindi Cazzo tu prendi Ufficio centrale Ufficio questo No no Allora prendere ufficio Da un'altra parte Cioè Scherzando 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 No Questa scala Scherzando 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 Poi Mio fratello Adottato Secondo Fratello adottato Secondo Come si chiama Piacere Jordan Anche detto Ghost Signor Ghost Piacere Io Hans Schnauzer Loro mio fratello Hans Schnauzer Hans Schnauzer Che non sentirò Non vedrò Ma ci dà Le nostre 100 stelle Preparati Matti Che tra fuori Arrivremo Anche su FIFA Bello Appena esce Tutto bene Preparati Per il pro club Dai Ciao Polizia Dio Mena dio Essere persona Mostro Molto Pistlacca Questa Molto Pistlacca Pistlacca Curiosa Curiosa Un po' Di disturbi Dei Di essere Disturbato Un po' Disturbato Da che Di Disturbato No Da gente Nessuno Da gente Nessuno Un po' Disturbato Mentalmente Oh fratello Fratello Muratori Ho lasciato Quattrezzatura Pezzi di merda Bastardi Quarta Non finire Questa banca Eh Avere lasciato Un po' Ti roffa In mezzo Montezza 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 Signori Noi Noi Avere preso Praticamente Cestioni Di questa Banca Mi piacerebbe Lavorare Come sicurezza Qui Certo Adesso Vedere un attimino Appena arriva L'architetto Ci cita Tutta Possibilità Di fare cose Poi parleremo Anche Di sicurezza Potrà essere All'interno Di banca Perfetto Molto pericoloso Qua possono Unire Fare Rapino Per lavorare Qui Però bisogna Essere almeno Vestito Come lui Perfetto Molto bello Questo abbigliamento Molto bello Questo essere posto Ti spicco Dove tutti Avranno conto In banca Tutti i cittadini Di questa città Dovranno avere Conto di partenza In questa banca Perché essere Unica banca Dove si può Depositare denaro Perfetto Di tutta città Ed essere Di nostra proprietà Buono Mi piace Siamo persone Con Grandi scopi Dobbiamo solo Lavorare bene E nell'ombra Per far sì Che le cose Fatano tutte Per verso il giusto Giusto Grande amanti Gente Depositare Flica Dove uccidere Non potere No Lei sì Lei sì Non potere Depositare Flica Tu ho provato Non si potere Non si potere Io prelevare La soldi Ma io Ti ho un cazzato Che lo starai Io gli dico Io prelevare Lui dice depositare E lui dice Tu ti ho depositare Ma tu non potere Prelevare Cazzone variato Ok Non puoi depositare Puoi depositare Solo qua sotto Qua sotto E che ti dice Devo provare Non è che si fida Io ci cito Un cazzotto Prima o poi Viaggire La mantipola All'incontrare Vedete questi Vedete questi Tutti questi Cattaferi In questo quadro Sono tutti i mariti Che aspettavano Che le moglie Gli abbassero Andiamo via Niente Niente questo Si un priaca Sempre Ma non puoi Dice Non picchiare Non picchiare Fratello Non picchiare Da qua Non si scende Chiuso qua Scala No Queste io Penso che siano scale Per scendere Cafu Fratello Cafu Cafu Pendolino Cafu Cerca di aprire Scassiamo La porta Cerca di Smalettare Spau E' un profondo Aprire Ora Ora A coltello Ora Cazzi Aspetta Adesso Si lasceva Ehm Cosa fare Un attimo Un attimo Mentre tu provi a rompere Se la tua lì Io provo a rompere Ma perché spaccare tutto Cazzo muratori Già poco efficienti Guarda Ha lasciato montezza qua Poi tu spaccare tutto Devono anche tornare Quelli stronzi E lui salta La porta di legno Ma fa Fannone Tarvi 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 Ti aspetto Grande Marti Non vedo l'ora ragazzi Di tornare anche su FIFA Comunque Carlone Grazie per il like Bello mio Spattato Come stai Carlo Dovete spammare forte Il tasto del like Ragazzi Quando entrate Grande pendolino Che fu Qui è riuscito Devo essere vestito Come lui O soltanto nero Black Elegante Bene 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 però a modo mio Va bene Che è successo Tutti i quarti Tutti uguali Che cazzo Sarà successo E' culata in macchina Ah no 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 E' dall'altra parte Dimenticato Arrivederci Signore Mauro Grazie per il like Bello mio Grazie di cuore Benvenuto Quindi Hans Come siete messi a cipo e acqua Poi fratelli Io cipo Esatto Esatto Marco Ne diciamo Grazie per il like Benvenuto Al nostro Creatore del piatto Hammer Ma per se si sta ancora No non è per essere In realtà si chiama In un'altra maniera Ah fratello A proposito Tutti e due Tutti e due A me non piace Oggi ho incontrato Persona che Ho conosciuto Il vestito elegante Va bene Mi dissocio Audi elettrica Dove siamo finiti Fratello E comunque Dicevo Ho conosciuto Una persona Oggi mi fanno Lì ho capito Oggi Rincontrato E mi ha detto Un paio di cose Interessanti A parte che erano Era con un gruppo Di ragazzi Molto grande Dieci Venti persone Chi essere Poi A non ricordare Il nome Ma mi ha detto Che abita A 118 Non la decido Io Macchina di merda Adesso non aprire più Non la metterla Non essere necessaria Adesso No per Lavorare lì No per sicurezza No maschera Casco Per sicurezza Casco e ciupotto Però può mettere L'orrore Non so se casco e ciupotto Magari si Andare a comprare cibo Fratelli Si io essere senza cibo Sto morendo di fame Hai ragione Andiamo a Hamas Hamas Magari Troviamo un proprietario Ieri Non hai potuto Parlare con lui Hamas Proprietario Molto amico Con me Molto amico Con me Lui non creerà problemi Sicuramente Accetterà subito Molto bene Molto bene Ti si ogni tanto Ti guardavo Quando giocavi a FIFA A fa culo pezzo di merda Freccia Come un indiano Non mi ha messo Lo strozzo bastardo Io Lo sento sempre su PES Prova FIFA Quest'anno Marcone Prova FIFA Vedrai che ci divertiamo Perché poi possiamo interagire insieme Io metteremo anche insieme La Pro Club Potrai giocare Cioè ti spiegherò Come fare delle sfide Per prendere dei giocatori Tutte cose così carine Molto bello Molto interessante Speriamo aperto Sto Bahamas Questo posto Molto scatente Buonasera Buonasera Non c'è mai un cast di nessuno Posso far vedere a voi cosa Finito 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 No c'era C'era Era aperto Vieni Vieni con me Fratello Guarda che bene Allò Vieni Vieni così Vediamo se il direttore Magari è qua Venite con me All'entro Qua sì No 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 Questo sia qua Aspetta Sì Yeah Staff online Qui 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 Staff online No 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 Problema No Problema Spiegare io A proprietà E tu rubare whisky Yeah Qua Tutta il sere Tutta il sere Vieni Bello E va Ma si arretra Incontri Magari Molto bello Molto prefatto Quarta Quarta Che bellezza Pass Pass Privato Qui Yeah Uno spettacolo Però Guarda Qui Quarta 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 Sopra Qua non vedere Giù Sopra Nine Nine Molto bello Molto bello Appuntamenti Bellissimo Ma noi non comprare un locale Di genere Sto parlando con una persona Per vedere un pochettino Di magari fare qualcosa di bello bello proprio Aprire altre attività Fratello di cibo e acqua Ce n'è già troppe Ce ne sono solo due Nine Due per ora aperte Al che centro commerciale Una volta che sarà pieno di cime Sarà cibo e acqua Ma voi chat staff Vedete Nine Quella verde no Yeah Sopra Vette sì Amici Blocca Ristorante Quella roba lì Vedete Risorsa Yeah Allora vedete anche voi Dove essere lei Farle vedere vestitino Da guardia Aspettami Perché questi piccoli pappini Parlare con noi Come se possiamo Cinezi Adesso andare Al locale Su spiace Comprata a mangiare Ando so arrivare Vestito da guardia 601 601 Parlato con Amico Amico Di Germania E qui anche lui In città Parlato di cosa Molto interessante Fratello Adesso spiegare Io ti spacco Telecomando Sono spenti Due euro Per le pile Oh cazzo Aspetta Aspetta Non è tardi Non è andato Dove sei? Ora 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 601 Andare 601 Adesso Dicevo Dicevo Amico Di Germania Essere qua presente E avrei parlato Di una cosa Assai interessante Assai interessante Ha detto Che loro A breve Appena finiranno Di Loro A breve Hanno una piantacione A dirti la verità Due piantacioni Una di cannabis Legale E l'altra di cannabis Illegale Saranno i principali Fornitori A quanto capito Molto bene Molto bene Non hai conoscere Queste persone Io Conoscere Ma presentare Subito E aver parlato Anche di un'altra cosa Che interessare Molto Per l'intesa Hai visto per l'intesa Un bordello Vedere Un bordello Un bordello Oh che dobbiamo andare dritto Su A girare Che buttare Non l'ho vista All'intesa No hanno cambiato Qualcosa per l'intesa Matti Spiega Mi spiega Mi bello Possere anche Pezzi di macchina Non ho guardato Ancora niente Di fifa Ragazzi Ero strapreso Con l'apertura Di questo nuovo server Che tra l'altro Sono anche staff Dentro E stiamo dando una mano Potuto Giorno Sera Pezzi di parola Che fa un camminare Di più macchina L'ultimo Comunque non era un giubbotto Sì è un giubbotto Era un tattico Un giubbotto Madonna Mamma mia Vent'anni fa Cazzo E io avevo iniziato Da fifa 98 Marcone Uno dei primi Quindi pensa un po' Quanto tempo Anche questo posto Molto bello Molto bello Sì E amaccaro come sangue Ladri Noi puoi spiccare bene l'oro Non fare bene l'economia E' uguale? Già No no Dei fate quale è sempre meglio no? Il costo è diminuire Allo? Salve Vieni al Io? Aspetta aspetta fratello Non ti avvicinare Non ti avvicinare Fermo un attimo Fermo fermo Guarda leggi giornalino Leggi giornalino Aspetta che chiedo qua dietro ai ragazzi Ah no stanno andando via Aspetta che chiedo a quei due ragazzi Che lavorano qua Quelli che stanno arrivando Un po' di paura di avvicinarmi Se c'è muzzica E qua? L'amico? Eh guarda No 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 Non è questo È fatto a testa fratello Eh visto a testa Visto a testa E ora l'intesa massimo 33 Massima 33 Complicata Ti conviene guardare Ok ok Adesso poi guardo Capito Guarda In che senso L'intesa massimo a 33 Che ricordo Cavolo Eravamo giovani Nathalone Grazie per il like Grazie Gianfranco Benvenuti ragazzi Come state? Che mi raccontate? Dove cazzo Grazie Uguale uguale Venire persone coacchiette qua Secondo Ok non musica Porca druga Non musica Cantata via musica Sentimi Grazie 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 Fadello andiamo a casa Ci aspettano Tu darei a pagare noi Sì sì Non pagare Diciamo che abbiamo Dei problemi con le fatture Che cazzo pagare Che cazzo pagare Andiamo ancora Non mi dà niente Cosa vi serve? Devo avere 800 dollari Cazzo c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non pagare Purtroppo La cassa Cazzo fratello Sì Va solo il contatto Mi dai i cazzi Siamo solo il contatto Ma come vedete Che stare Bancomat No il Bancomat È rotto Non stare Bancomat Qua vicino Cazzo Eeeh Eh sputate un po' per terra Ehi cazzo Ma che cazzo è questo belliciotto qui Ma che cazzo Stiamo parlando Parla nelle orecchie Stia bravo no? Oh scusi signore Se la sto disturbando Mi sposto eh Però Con questi toni Non ho capito un cazzo signorina Vabbè Avete capito voi Questa è tutta cazzo 5,6 c'è una banca Per prendere Soprere Soprere Ti apriamo Andare a prendere Soprere Grazie grazie Arriva Sì Ci dispiace ragazzi Nessun problema Nessun problema Nessun problema Nessun problema Grazie 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 Ma non si capisce Cazzo molto scosumato Questi Cazzo Vietare cazzotto No Affilare il coltello nel culo E svuotare come calzino Come calzino Calzino e svuotare? No Scusa Termini ancora lì in qua Oh Se mi ultimano il game Se mi ultimano il game Ci vediamo presto In che senso se mi ultimano il game Aldone Cosa devi fare fratello Dimmi Ora non c'è Mi gioco a 10 Dobbiamo recuperare pistole Fratello Ma Fratello Fratello Girati Quello ha le scarpe di Goku Hai visto? E ti ringrazio per la consoprenza Eh Tieni un po' Ma dai Eh lo so che devo bere Ragazzi Ma Non hanno il banco Ma Dobbiamo prendere il Fa caldo eh Dobbiamo andare a prelevare Se no non possiamo mangiare Ebbene Molto strano è qua Oh Polizia Polizia Salve Salve Allo Salve Ma rubare questa macchina Molta bella Venite Aspettate un attimo ragazzi Che cerco di capire Finisco di leggere il tuo messaggio Matti Salgo solo in macchina Tutto intersempati aprire Bastardo Rotto finestrino Ancora Non ho perso Tu brutto uffizio Brutto uffizio Allora Il paziente di sedersi Merroidi Ora non è che ti giocano Come non è che ti Non è che ti giocano a 10 Ecco Ti giocano un massimo Di tre giocatori Nella squadra di tipo Due giocatori E la sesta nazionale Buono Nazionalità Per esempio Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Anche con le leggende Quindi Matti Questa Io dico Buono Buono a sapersi Matti Buono a sapersi Non lo sapevo neanche Devo informare un pochino di più Su sto FIFA Tra l'altro esce il 23 Giusto? Io ho già fatto il preordine Quando esce? È difficile Ti consiglio Guardate Qualche video Eh sì Adesso In sti giorni Raga mi riattivo Anche su FIFA Guardare un po' di cose Sono impazzisco Poi arrivo Che mi trovo troppo impreparato Fai il palo sul ponte Un attimino Hai rotto il cazzo Tu e le macchine Hai rotto le palle Puccare Puccare come Puccare come Puccare come Puccare Aspetta Aspetta C'è il pezzo Buonasera 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 Qua tutta? Allora? Ma che cazzo Ma Ho capito Ho capito Ma lo guarderemo Lo guarderemo Buonasera 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 Guarderò qualcosa Matti Guarderò qualcosa Sicuramente Adesso E mi informo bene Quindi vi farò magari Un video Che ve lo spiego Se magari è un po' Tanto diverso Più difficile Ok Che cazzo è finito Quell'altro Io Tu avrei prelevato Solti? No Io neanche Prelevato 8 E dove cazzo Essere 8 Ecco dietro Ecco Vedi Avere prelevato tu soldi? Ya ya Però ti avete cambiare pin Poi ragazzi Ricordate Se non un problemino Io avere Ci ha cambiato Ah ya ya Solo fratello Fratello Crante Crante Fratello Crante lo capisce Lo capisce Fuori Rincoglianito E' quello più vecchio Quello più Rincoglianito Io non sapere Capare pin Mi hanno arrivato Miel Niente Dimmi tu Ah ya ya Dovevi fare da solo Però Dovevo direi Ragione Ragione Questa che dice Questa che dice Si è tutto A me Ci ho parlato Questa notte In caffetteria Sentirei che voce Che ha Che dici Lo faccio Ritornare GeForce Sono 6 Coca-Cola Premium Addirittura Premium Che dici Lo faccio Ritornare GeForce Allora Aspetti Chi era GeForce Vinci Io Ragazzi Non mi ricordo Niente Come stai Vieni qua Sicuro che L'SVC Signori 500 Eh sì Sicuramente Perché se cambia l'intesa Cambia tutto A me rispondi Signore Poliziotto Parli ancora un po' Questo gioco No Gianfranco Non si può giocare Sulla play Questo è solo da pc Ragazzi Questo è un mostro Ok Potete passarmi i soldi Quanto Quanto soldi Aspetta Mi sembra 400 Il pezzo Un attimo Non voglio sbagliare Scusami Quanto è il pezzo 400 Hai sentito Che ragazzo Ah 350 Questo è un mostro Un mostro Grafissimo Grafissimo Ragazzo Oddio Signorino Signor G Sì Minchia Tutto è 355 Quello che era come Cioè quello che eri del cartello Poi sei venuto con noi Vince Giusto Torna con me Torna con me Torna con me Mi appiccino Signorino Sì 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 Assolutamente Mi spiace Te lo ripasso Te lo ripasso Non è un problema Mi spiace Grande G Scusami Mi ero dimenticato Vince Gianni Bello De casa Grazie per il like Come stai? Quanto era Scusi 4000 4000 Faccia 4000 Non si trova Ciao Abbiamo un rp fantastico Per adesso Abbiamo strutturato Una cosa molto bella Sono arrivato La ringrazio La ringrazio La ringrazio Grazie signorino Ok uno È un po' troppo esagerato Eh ma Il rispetto Insomma Ok Allora L'ho dato Sì peccato che penetri Soltanto il genere maschile Non quello femminile Allora Lei come si chiama? Altra ragazzo Ok Mr. Brown Allora La ringrazio Di nulla Di nulla Vale lo stesso per me Sì sì Buonasera Buonasera Stiamo facendo con i soldi in contanti Poi ci dividono Eccomi Sono tornati signori Ciao Dimmi pure Veramente Ciao Sì ho bisogno Vado a vedere qualcosa Perché mi hanno appena rubato la moto È un casino Buonasera Buonasera Ce l'ho Ecco arrivo Guardi Prima che i ragazzi Mi facciano il conto Guardi Quanto costa una birra? 3,50 No Lo devo andare a prendere Perché non può Riesco Torno Dai Un bacione Un bacione a te In cassa Signorina 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 Anche Anche Tre birra Tre birra E voi non mi date la fattura È un casino Come sta signore? Buonasera Buonasera Non bene Non bene È un casino Non si riesce neanche a bere una birra Ecco Ecco A lei La birra Ora la birra Offriamo noi Quando ho prelevato Venga pure a pagare È in buona fede Ok? Va bene Grazie mille Grazie Grazie mille Che sentire Che sentire Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Tre birra Tre birra Tre birra Taviamo birra Un signore qua A mia testa Anche il signore A mia testa Scusi ma Un accento così Conosco dei parenti Io vengo da Livigno Voi siete anche voi Delle donne? Ok Noi svizzero Cantone tetesco Signore Mamma mia Staccazzo di birra Ho manciucato Ecco perché Sembravo di vedere Tanta gente come voi Venire a Livigno Allora sicuramente Ci siamo visti Da qualche parte Non so Lei viene a Livigno In vacanza Oddio Carcatraia Ticini per la birra Molto forte Questa birra Porca pisare Quattro plumarto Rossa Rossa Questa è stata Un coppino Dietro testo Oddio Oddio Ho passato Ho passato Cabezzana Qua non è Questa non è La mia grappa Ma è molto più forte Prosta Prosta Salve Dove aver comprato Questa birra signora Molto forte Ma cosa è successo Dal vostro paese Solo il meglio Teniamo Riconosciuta Riconosciuta Molto buona Buonasera Buonasera Ragazzi Salve Ragazzi Buonasera Buonasera Venite Salve 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 c'è in questo locale. Come chiamare lei Spirlo? Io Willy McBacon signore, Willy McBacon. Piacere Hans Schnauzer Aveva un cane una volta il signore. Aveva un cane che si chiamava Willy Schnauzer Le mette tanto del cane? No, no, no assomiglia al nome di una razza canina detta Schnauzer assomiglia al nome di una razza canina Mio vecchio nonno c'è vero che è Schnauzer Ha creato noi Cepo Schnauzer fanno 1838 Proprio La prima eredità ma so che i tedeschi ci sono bravi piloti i migliori adesso non esageriamo Stia sicuro che noi non conoscere buoni piloti entrano i treni non esserci e nessuno buono pilota Ma il fratello di petta So che esisteva un fake pilota Stavo vedendo se è il mio amico fungo con la forma dopo l'ho perso Se va questo qua e a destra il pilota è di merda E' un fake pilota Allora proprio fake pilota Sì, allora magari era lui Signore lì Allora i signori hanno detto che offrono 5-5 Signorina No, no abbiamo finito il contante Signorina No No, eh no No, no Come non posso fare risotto Guardi come sono vestiti Io ti cà Io ti cà Faccio una cosa Pensavo che aveva trovato un super porcino da pelle No, ma che dice Che dice Questi sono i primi alberi genealogici di snoucher Ah, ok Il pelo snoucher era la pelle del cane Perché lei aveva striscia a ciala sui pantaloni lei striscia a ciala Perché così mi vedo No, perché lui va a far attraversare Pampini a scuola Pampini a scuola attraversa lui guarda pedonale guarda Ah, lei è viciletto di merda a portare un cazzo Cos'è? Viciletto Viciletto Lei è andata un po' fangula Scusi ma lei ha fatto il documento signor snoucher No, no Non posso Più meno Di tonic Cuaricotto Sì No, io acqua Scusi Sì, ma lo posso bere un alcolico Vedazzi No, ho mangiato due funghetti per il tuo Ma il mio collega ha comito quelli di rosso Venga Ah, ok Salve signorina Come sta? Tutto bene? Salve, salve Tutto bene Buonasera Buonasera Va bene Grazie Sì, sì Venga, venga Sì, ma non parli con Vinciletto Non parli con Vinciletto che fa attraversare Pampini Lui fa Guardi che questi qua mangiano salsicce tutto il giorno E non solo le mangiano Signorina, signorina Vede che ha le strisce gialle nei pantaloni Eccomi qua Vede che ha le strisce No, no, no Hanno messo musica copyright Raga Detito, sentito Non stare via per tempo Gli è scappato Mi dispiace Mi dispiace Vuole un po' di ghiaccio da mettere magari sulla schiena Buona No, vabbè, grazie Ora Vedo di passare dall'ospedale Signore, non stare bene Mi dispiace tanto Mi dispiace tanto Eh, purtroppo La gentaglia c'è ovunque Eh, vabbè Ma poi muscoletto P funziona bene Andiamo, sì Arrivederci, signore Grazie Arrivederci Schiacere, schiacere Allora, io, un cazzo Salve Buonasera, buonasera Non siamo tornati Perfetti Così è stato perfetto Io, molto pelli Molto pelli Oh, quarta, girare, girare Quarto cosa ho scritto dietro Già anche scritto sulla nome Detto Ecco, perché, io, io Mh Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Bellissime, bellissime, ragazzi Ah, guarda chi è stato arrivato Signore con maioncino di merda Ah, lui ha fatto Trafacco con me Un pochettino Buonasera È muto, muto Ecco, lui sa salutare Come recina, eh Lui deve essere un principe Scusi, scusi Mi ha muscoletto P Non funziona Non cazzo Fratello Prima che escono Andiamo a bucare A bucare come A vigiletto Cazzo Sì Sì Buttiamo come A vigiletto I cazzo Buttiamo Buttiamo macchina In acqua Buttiamo Come va, signore Pevuto birra Riuscito a bere birra Sì Era molto forte Molto forte Bello stivale curioso Lei Belle scarpe Grazie Grazie Erano le più belle Che avevo Sì Non l'avevo mai usata E ho detto Vabbè Per il viaggio Posso usare Ci stava appena Un bel campero, sa Oh Cristian Bello mio Grazie per il like E la condivisione Le 200 stelle Bello Il follower Perperto Il nostro Cristian Cassone Arriva Saluta Mette il like E Timona 200 bob Grazie mille Fratello Grazie Cri Un applausone Scappo 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 Vai Vai Dentro Il locale Vai Dentro Il locale Dove vai Dove vai Buco Formaggio Con buco Perfetto Ma li ha sparato Ma li ha sparato Ma li ha sparato È morto È morto È morto Come è morto La macchina Gli ha buttato la macchina Fai sì È la macchina Dov'è Dov'è È là Là sotto Madonna ma cos'è qua 32 fps Non mi carica niente E voleva resta Montgrafica Sto arrestando Credo Dov'è Sto arrestando La sotto Io ne ho affettato Un cazzo Là 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 giù Dove c'è l'inizio Del ponte Chi stare Arrestare lì Ma l'hanno ammazzato Che è sviluppo Gosti Gosti Questa perché Coglioni Io ho detto Gosti Come invece Lui Rubatto Macchina Cazzo Come mai Non si vede Un cazzo Così Mi sentite Mi sentite Mi sentite Ma qua Io pensavo I poteri Da owner Sull'applicativo Ci sentiamo Gesù Cristo Ha chiamato In caffetteria Per aver fatto Un'attro Lata Con una persona Che tra l'altro Conosciamo benissimo E si sente Sto grandissimo Cazzo Perché paga 2.000 euro Per prendersi L'owner Giusto No E ragazzi Vado a prendermi Un attimo Da per Arrivo subitissimo Due secondi Pasta Pasta No 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 Perché adesso Mi chiamato Il cazzo del cazzo Che spara così A cazzo di cane E questo Non viene contato Oh cazzo Dove andare Fraterno Dove andare Noi Dove andare E chi me È andato a prendere Da bere un attimo Ragazzi Ma cacchio di sete Per tutti quelli Che passano in live Ragazzi Lasciate un bel like Tanto non vi costa niente Passate Lasciate un like Poi se volete andare Andate Però un like Ragazzi Ci fate un gran favore Tutti quelli che lo lasciano Francescone Grazie per il like Grazie Simo Bello mio Grazie per il like E vedi C'è un altro Vallo avanti Sto cercando Parcheggio Cazzo Parcheggio Ciao Simone Come stai Meccanico Prifatto Che fine avete fatto Tutti ragazzi Ti è arrivata La notifica Simo Jammer buono Simo Jammer buono Ti è arrivata La notifica Simo Chiedo una domanda Perché sto avendo Problemi con le notifiche Si è arrivata Ah, ok. Siamo in giro di 40, perfetto. Allora è giusto, è arrivata giusto. Che hanno fatto? Che fissato questo buon, mamma mia. No, non capire tu, fratello. Se io non metto qua dentro puoi fermare macchina, non muoverci più, cazzo. Siamo, siamo. Perché? Perché, non sai, qua macchina è rotta, è rotta. Non si muove, non si accende e non fa più nulla. E basta anche solo un colpo molto forte, sai? Successo, amico, moto, io prendere solo un palo e per rotta moto. Eh, stiamo passando davanti all'H592. Ah, ma Casino è già aperto. Andiamo a vedere, Casino? Casino. Se no, è chiuso. Ah, chiuso, chiuso completamente. Eh, si può entrare dentro. Aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Molto curioso io di vedere Casino. Oh, qua che è entrato. Ho aperto, aspettiamo quanto è per lo. Vabbè, io ho aperto. Casino. Dove state? Casino. Io ancora? Che vuoi fare il Casino? Cos'è il Casino? Il Casino. Oh, no, no, ok, ok, ti ho chiesto solo perché vedo pochissime persone in live. Siamo staff, siamo staff, siamo staff. E vedo che tanta gente dove mi riceve la notifica, raga. Sono senza benzina, quasi. Vabbè, i piedi. No. Ti ho risposto solo in fronte. Ma mica aperto? Vabbè, vabbè, vabbè. Molto bello, eh? Vabbè, molto bello. Cazzo, ma non c'è neanche un insegna del locale? No, non mi è aperto. Vabbè, 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 vabbè. 100k. Eh, vieni con. Esco più più smacchiletti, eh. Fincere, 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 fincere. Dimerto a prendere tutti i sogni. Non c'è qualcosa per cambiare, vabbè. No, ma si faccia direttamente con contanti. No, 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 no. Ah, ecco, trovati, 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 trovati. C'è 100 dollari. Già, vieni vicino a me, vabbè. Beh, se no. Beh, se no, no, no. Che hanno fatto? Non vincere mai, cazzo, no, ti merda, bastardo. Ci chiamo le slot, ragà. Toccare tutti i macchinetti. No, no, no. Ti devi levare il giubbotto e la magliotta perché non sono... Non posso mettere... Non lo ho detto io. Non vinco mai, non vinco mai. Iben? Iben? Ah, è scherzo. Vieni vicino alla macchina. No, niente. Non vincere, eh, macchinetto. Fai la gang ancora? Non capisco bene. No, no, no. Una macchina vengo là. Una mafia, una mafia, una mafia. Saremo una mafia, un gruppo criminale molto forte, molto... Aspetta, hai mai vinto una volta poi? Nein. Comunque le macchine hanno un rumore molto realistico e sono anche belle da vedere, visto che roba. Non va, non va, non vinciamo niente in questo casino ti merda. Ho vinto. Io ho vinto, io ho vinto. Quanto ho vinto, tu? Tre ciliecie, tutti uguali. Perché non ho vinto niente? Guarda soldi in contanti. Guarda se sono aumentati i soldi. Mino scendere i soldi. Come non scendere? Eh, devo rubare una macchina. No, a me scendere i soldi. No, a me scendere i soldi. No, a me scendere i soldi. Lui ha finto, magari, a quel cazzo. Sto arrivando. Sto arrivando. Sto arrivando. Sto arrivando. Sto arrivando. Boh, non capisco, io. Posso, ma perché... No, io l'hai detto con loro. Te lo dirò dentro, loro. Avevo vinto, cazzo. No, a me non scendere i soldi. Sempre 3,49, eh? No, allora, no, stiamo gioccando per nulla, cazzo. Stiamo gioccando per nulla, cazzo. Sì, avere vinto, ma non capire un cazzo. No, 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 basta. Doveremo prima. Mario. Vedere? 5,5,0. Romano. Ma si vince niente qua, raga. Ma qua fuori è se c'è anche il podro. Ancora. Andiamo a vedere se si può giocare. Caffalli, caffalli. Sì, ragazzi, il rumore delle macchine, ma poi anche guardate le mappe come sono belle. A me non toglieva niente. Niente a me. No, no, andava un cazzo. Sicuramente... Dove cazzo andavi qua? Ma dove cazzo stai andando? Quarta? Fine. Ma non funziona il sensore. Ancora no? Questo è per filla, per filla, su. Ma non c'è nemmeno... Bella Darione, grazie mille. Merry luck, bella mia. Qua, fiero, fiero. Dai. Non so perché mi si vede ogni tanto troppa luce così, raga. Devo risolvere questo problema. Geran, stera... Geran... Ma? Che cazzo combinare, tu? Sei ruzzolato per tutte le scale. Fino a fondo a dare, eh? Sì, sì, stanno con me i ragazzi della città vecchia. Marco Lino non è ancora entrato, raga. Ma perché a livello criminale adesso i primi giorni... Mi stava troppo simpatico. Sì, no, ma zonerà sicuramente con noi. Però che ragazzi, siamo all'inizio di una fase del server, proprio appena iniziata. E... Si deve ancora sviluppare tutto. La criminalità, la legalità... Le armi, non c'è ancora niente in città. Sono i primi giorni, sono un po' così, raga, un po' noiosi. Tra virgolette, te la devi fullare, te la ruoli un po' così in giro e però devi capire... Ho sentito parlare di locale. Come intraprendere varie strade, capito? Sia di preciso il Lux Set of Air per andare a portare. Ma poi c'è il Lux. Ti ho messo. Grazie, grazie. Adesso sicuramente poi quando si inizierà a ruolare un pochino la parte illegale... da mafiosi, che dovremmo gestire gang e fare cose del genere... Poi torneranno anche i traiatini, per esempio, quelli che sfarrano, che serviranno. Comunque tutto cambiato, macchina di qualità 100%... Si, guarda che roba. Poi vabbè, io ho cambiato la mod grafica, si vede una figata tremenda. Però si, sono fatte benissimo. Ah, fotografia... Ah, dare farò fotografia noi, fotografia, qua. Aspettate, aspettate, mettetevi tutti in posa o scatto automatico qua, aspetta. Scegliete una posa, una posa. Ora... Yeah, così fa bene, mi comito in faccia, fratello, aspetta. Fare foto? Cioè, fare cheese. Yeah, yeah. Così, così. Cheese. Che cazzo ho fatto io qua? Mottapella, mottapella. Ti avrei vedere, va così? Scatiamo una fotina. Ragazzi, mettete like? Oggi sto spavano, scala giù. Emma. Mmm. Dade il supporto delle vostre, esatto, esatto. Guardate il supporto, ragazzi. Il nostro amico Costa ha preso il volo. Davvero? Sì. Mi sa, eh. Per quanto? Non lo so, penso, sport è per sempre. Ah, sì. Cazzo, se mi scala. Ah, ecco qua, qua, fratello. Qua, qua, qua. Vieni, vieni. Mmm, questo è molto adatto al nostro gusti, cazzo. Molto bello. Ah, ma voi si ritrova, perché non lo vedete, trovate le scale. Ecco. Oh. Guardate che bello sto locale, Sipo. Quale cazzo? Qualcosa di legale? Comprerai Maria, carrosserie, autosal. Sì, sicuramente più avanti compreremo altro. Io, ragazzi, in realtà, avevo messo gli occhi su questo locale qua, su Lux. Ah, volevo comprare questo. Però poi ho comprato la banca. Comunque sono tutte attività che si comprano in bit, eh. E questo qua è bello, eh. Guardate che stia. Oh, aspetta, aspetta. Fare spettacolino per voi. Questo è il locale che ha parlato... ...Agenzia Immobiliare? Sì, fratello. Questa agenzia immobiliare ha parlato con te? Sì. Bello, eh? È bello, sì. Costanto a tutti i soldi, eh. È troppo bello, ragazzi. Era quello che volevo prendere io. Boss, la live si vede da paura, vero? Vede bene con questa... Io non avrei ancora capito come cazzo sedere a questo posto di merda. Muscoletto slash. E... Fitchire. Eh, perfetto. Tu sai dire bene? No, Fitchire. Ottimo. Reflessioni sotto pianoforte. Guarda, ci puoi stare. Mi sentire di qua, guarda, così. Oscar, grazie per il like. Grazie Mirko Massimiliano. Grazie mille, ragazzi. Benvenuti. Come state? Massi, grazie per la condivisione. Come va? Secondo voi potremmo anche guardare il suo appartamento. Devo andare con te, posso? Ma mi devo... Eh, sì. Eh, sì, devi fartela sembrare uno, Fra. È l'ultimo. Eh, non riesco a sedermi, io ce l'è. Ma te... Dove sei finito con gli scarponi? Vabbè, ma sti cazzo. Fra cazzi, io mi addormento qua. No, eh, col portatile dura. Dove cazzo vai a mezzanotte, tu? Una, una. Oggi era corta, corta. Domani lunga, lunga. Non rompere i coglioni, muoviti, vieni a farlo in gira. Non ti amo, fa culo tu, fratello, bastardo. Non devi andare a dormire a mezzanotte con un pampinino di dieci anni? Eh, eh, il problema è che io ho pampinino di dieci anni. Io ti sei, io ti sei. Eh, domani mattina, domani mattina rompere i coglioni quadrati, fare quadrati, latondi quadrati. Vabbè, vieni un attimo in braccio, quadrati. Dove cazzo è? Per favore. E io ti faccio acquittare, loro. Prendi il braccio, fratello, cranta, che tu vuoi più forte. Dove cazzo si esce, qua? Quanto, qua? Fratelli, fratelli, è acceso ascensore, acceso, acceso ascensore, vieni, vieni. Andiamo, andiamo. Già, no? Uno, uno. Eeeh, molto bello. Veri che casa che c'era sopra? Io avrei visto questa. Iaiaia, molto bello. Poi c'è un piliare, avrei visto per comprare. Guarda, fuori c'è i jacuzzi sul balcone, guarda. Dove fessi uscire, devo uscire. Iaiaia, iaia. Guarda, i jacuzzi sul balcone. Ma dite che faccio male se cado da qui io? È molto bello. Tutti entreranno le persone qua? No. Eeeh, poi sarà solo chi avere locale. Iaia, però, però possiamo optare per fare, se ancora non ha preso nessuno, fare, fare incontro qua. Molto bello. Bello, sì. Hai visto c'è anche un altro piano sotterraneo? E' adesso andare a vedere, eh. Sotto non l'avrei visto io. Magari il parcheggio privato. Avrei visto solo questo, camerata a letto, jacuzzi. Mmm, molto bello. Vediamo un panno, panno, panno. Oh, cassaforte. E c'è anche un porta lì, eh. Io ho panno, panno. Penso sia panno. Ma guarda che bello, gabbè. Con shampoo. Eeeh. Guarda, guarda, guarda. Oh, vasca e mammo. Marmo di carri. Guarda che bello. Guardate che bello, ragazzi. Anche la jacuzzi. Sono uscito un attimo per riaveriare il PC. Ah, ok. Ho sentito. Sotto, sono molto curioso di vedere. Secondo me sono un po' di gioco privato. Ho preso una banca, sì. Abbiamo preso la banca. Siamo dei banchieri. Facciamo qualcosa. Aspetta, carri. Guarda, noi la banca farei presi di... No. Faremo pulizia di soldi sporchi. Oh, altra stanza di qua. È stra bello. Il cellulare si rompe in acqua? Sì, sì. Parti, devi tuffare in acqua, però. Questa non è casa nostra. No, questo qua è Lux. È un locale che dovevo... Volevo comprarmi io, ragazzi. Chiuso. Che non ho comprato. Andiamo a mettere pieno sotto. No, ve l'ho spegnato. Entrata diretta al locale, bellissimo. Bello, bello, bello. E allora piano zero cazzo è? E dove siamo taliti? Ah, aia, aia. Molto bello, molto bello. E comunque, cioè, per comprarli tu compri tutto questo. Telefono di qualcuno suonato, però. Il mio no. E io non ho per il telefono rotto in acqua. Avere una chiamata senza risposta, però. Provare a richiamare. Ah, ha fatto squillo allora. Plotto? Mi avere chiamato, signore? Eh, porca puttana, signore, scusate, è partita chiamata. Qua sta in telefono i gns di merda. Porca puttana, chiamare il bloccale, chiamare il bloccale. Non avere bisogno di me, allora. Ah, no. Ok. Sì, pene, pene, pene. Stavamo tanto un'occhiata locale Lux. Molto bello, molto bello. Ah, capito, non capito. Molto carino. Ah, ma penso nei prossimi giorni ci vedremo, perché avere l'appartamento lì, all'altore. Dove vedele sempre lei. Eh, sperare che prima puoi dare l'appartamento, Torre, anche me. Eh, se no, magari, che ne so, se lei fa piacere, condivide occhiavi con lei, per il momento. Eh, sarebbe molto carino, sì. Così vedere io, non avrei neanche ancora visto. Va bene, va bene. Allora, sentile domani noi, va bene? Va bene, buonanotte, grazie, signore. Buonanotte, signore. Buonanotte. Buonanotte. Come si fa a salvare nelle ultime chiamate, raga? Mannaggia il cazzo. Perché devi riscrivere tutto. Non lo so. Non mi fa... Ma, tale, tale, tale. Tale con l'ascensore o tale, pieti? Ah, ah, ah. L'ascensore. E devo non avere mai voglia di fare un cazzo. Molto bello questa cosa dell'ascensore, molto bello. Questo è il locale di Lucifer. Esatto, bravo, Francesco, è il locale di Lucifer. È presente il telefilm Lucifer? Questo è molto pesante. E questo è il suo locale, uguale, fatto, fatto uguale. Eh, dovete... Se l'auto è distrutta, dove trovare? Cosa? L'auto è distrutta, dove trovare? Applicazione cellulare, richiami nel garage. E te la portano riparrata. Ah, dal cellulare te la chiami nel garage. Solo mille dollari, così. E ti la paghi di mille dollari, c'è. E più è sopra, dove siamo andati prima. Ah, per il telefono, dici, per salvare? Vorrei capire come si fa, ragazzi. Ah, io ho 8-3 di tabacco essiccato e 300 di... C'è, 350 di tabacco normale. Non c'è il più. Tiendoti, quello pello recalo per te. Così fai qualche assurdino. Finisci di processartelo e te lo vedi, saranno 20-30 mila dollari. Non fa niente. Poi, se vuoi una macchina, ti consiglio di andare nel 95. È aperto, sta regalando macchinina. In che senso? Regalano macchinina. Quella, quella tipo... Come si chiama? Plioso, Plioso. No, ma io devo vedere il Sarvai. Davide prima contatti. Eh, ma quello lì è... Sì. Ti fa salvare il contatto, vedi? Qua, qua. Ma no, di questo condizionario... Hai sui contatti? Eh, è quello, è quello. No, 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 no. Visti tutti i tuoi. È quello, è quello. Eh, stesso prezzo? Ja. Male. Non te lo fa fare. Questo pezzo è assurdo, comunque, assurdo. Ho preso grazie alla mini. 50 o 30 batti di mani. Buona, buona la mini. Regalata, ragazzi. Che server ti regala la macchina quando entri? Solo Grau, ragazzi, ti regala la macchina quando entri. Rimane il tuo di tua proprietà, puoi, eh. Il tuo proprio tuo sarà. Una figata, raga. Questa è la torre qua. Tu presi un ufficio qua, fratello, vero? Eh, sì, ma non aveva ancora. Eh, ma poter vedere, magari, accesi ascensori per tutti. Ma? Questa è molto bella, la moto, molto bella. R1. R1. Ja, ja, acceso, acceso. Penso sia acceso. No. No? Ok, ok. Acqua, acqua. Ma qua, dove sto io? Ah. Questa casa o appart... O uffizio? Ma piccolissimo. No, no, esserci più piani, io ho già visto casa simile a questa. Tre piani. Eh, ma non è questa, però, quella che ho visto io. Pieni, pieni. Però guarda che vista, eh. Ma che cazzo c'hai? Non è una massa questa, oh. Guarda che meraviglia. No. Sentite anche voi, però. Sì. E tu che cazzo guardi? Ma tu che cazzo parli? Dai zitto, io volerai dormire, eh? Vicino di casa. Salve. 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 È sbagliato piano, coglione. Buonasera, sì. Ma come è sbagliato piano? È il secondo piano il tuo, testa di cazzo. Non c'è. Ma non c'è. Il sensore è solo un piano. Ma senti da sto cazzo appartamento che non è vostro. Il coglione. Non dovrebbe essere privata. È privata, è privata. Andatevene a fare. Non dovrebbe essere sbagliato. Stia calmo, stia che butto di sotto io, eh. Che cazzo fai? Ti butto di... Buttarti sotto questo io? Adesso è privato. Adesso che c'è il lavoro, hai capito? Adesso è chiuso. Dovete trompare. Non andate, pori, cazzo. Stiamo attendo, non ho gritare, cazzo. Ti sento fino all'altra torre. Deve stare un po' meno con ciccio, eh. Dai a fanculo, stronzo. Preservativo. Andiamo a vedere piano di giù. Ti sto a stare. Andare a mettere. Molto bello questo. Mi piace questa casa? Ha passate corte, ha passate corte. Ma fa cacare, però. No, ma è molto bello. Fammi cacare. Mi piace. Molto bello questo film. Ma sì, cazzo. Non c'è l'attico? È questo l'attico. È il secondo piano. Vuoi portare buco serratura? Il secondo piano non c'è. Per quale testa di merda. Carlo, sgarattiamo per il like. È buono quella super... Forse è un altro ascensore? No, io penso che ancora non ho aperto altri appartamenti. No, solo quello guardare. Noi esserci infilato la casa di honor. Mentre faceva... Mentre cercavo di scopare con il signorino. È andato tutto male dopo che siamo entrati noi. Ma lo sai cosa dovevo dire lì? No, ma che cazzo tu ha? Questa è nostra casa. E fare figura di merda. E' un puttare a terra così impara a cacciare noi, stronzo. Bucare ruote, bucare ruote. Però adesso andare a dormire, fratello. Oh, bucare ruote, fratello. 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 Bucare ruote. Bucare ruote. Buonanotte, vaffaculo. Buonanotte, vi lascio un macchino, mi raccomando. Guarda, signorina. Vi ho riportato in garage qua, così quando mi sveglio sono qua. Grazie. Autista? Chi è autista? Ecco. Ho scoperto il viola, autista. Quinti tu? Ja. Oh, no, 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 io l'avete fatto detto, io l'avete detto, sono autista. No, no, ho detto, ma ti affaculo. Quintare io? Perché fare se deve essere a te? Quintare io. Io sei del replante. Questo non ha capito niente. Il Luxi sì. Eh, il Luxi, raga, il Luxi costa un bel po' di soldini. Ma non pensate che qui costa meno, eh. Quando è giorno, guardate come si vede bene, raga. No. 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 Che cazzo è essere sta musica? Suoneria. Suoneria. Dove essere ghost. Un bel mino. Non è stato? No, sta... È il venuto e... È il venuto con la gravità. Eh? È un po' bene con la gravità. Polare? È il venuto e si vola un po'. Mannaggia, il cazzo. No. Ma dove andiamo? Andare a concessionario nel 95. Andare, andare. Signorina, sentito. È il con me. Che senso, Carlos? È il... È il con me. Oh. Madonna, Emma. Come se era sprinta in mezzo alle macchine. Ma facciamo 50 fps, va benone, no? Chi sta? E la grafica è spaziale, però, eh. Oh. Oh, quant'è? Ah. Ah. Hans. 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 Il contale è 5k. Io non avere soldi dietro. Ah, sì, avere 400k. Ah. Buono per una fattura. 5k a volere? Sì. No, 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 a secco. 4k. No, 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 no. No, 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 no. mancano semere in polizia vai in polizia ma non si accende neanche per sentire il sound mi fa impazzire la polizia a me ragazzi vorreste vedere la polizia voi io ancora devo passare alessio grazie per il like quanti like siamo ragazzi ne abbiamo fatti una cinquantina no neanche 48 che vergogna stiamo andando male queste sere dobbiamo riprenderci alla grande più presto ragazzi ho troppo una signora 20 le macchine per caso caro io bello eccolo eccolo mi serve una macchina come funziona ma che macchine ci stanno mi hanno detto che ci stanno macchine in regalo sto a piedi come un cane cioè ho quella la anche io pure o quella la verde eppure la quella la rossa la fuori aspetti che ti ancora hai capito che non capisco che tu è bellina questa no? a minimi minor quella verde la barina ah no fanno cos'era mi stai cimicentare pezzotta o a me è un momento avete bisogno signori allora bella collana bella collana bella collana ma su o gratici ne ho bello 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 poi si può cambiare un po' giusto ah boh cosa mi ha detto bella collana bella collana no una macchina volevo una macchina voleva ok allora abbiamo l'abrioso va ti posso sapere nebulo mi si fa guarda quale l'abrioso è questa vede qua ok o se no la issu che ti faccio vedere vieni ok tu te vieni non ti vedo più di qua di qua ah è bello mio da questa parte questo qua questo qua ti sto facendo vettere la macchina quella brutta brutta vera questa brutta prendi verde piuttosto questa è la issu è l'altra l'altra possibile l'altra possibile l'auto ma boh meglio il 500 meglio il 500 meglio quella si meglio quella se vuoi cambiare colore lavorare in altro colore invece di verde no si cambia dopo ma puoi scegliere il colore certo che puoi scegliere ci sta così se vuoi questa è rossa rossa è perfetta sì è rossa con perdescenza arancione perfetto perfetto vengo qui vicino a lei un secondo qui con questo taglio dei capelli grazie caro bellissimo bravi signori pedano sarebbe una sfida vado io in polizia secondo prego venga grazie era in polizia dimmi quando è libero carlo se non ti capisco bene quando scrivi era in polizia secondo e dai potrei provare a fare il tabacco ho buona il 100 sì sì abbiamo io ho soldi zero anza il crater anza il crater però non vestiti così il tabacco stai toccando se non andate bene scicco piccole non credo perché c'era intorno a me tu ho comprato macchina io io ho la vera macchina quella io ho la vera io ho la vera questo questo è usare per fare footy questo te lo recadono questa io ho la vera che cazzo non farcare a me io regalare io ormai io doveri con questo ma ce la fa che metti un guido doveri andare per il tabacco che dovrei comprare questo questo che cazzo fare con questo io comprare tutto bellissimo devo andare da signore dire che io regalare macchina a te a me veramente ah le preferenze le amano vuoi lavorare prima e poi regalare macchina allora tu andare a fare un culo se tu regalare adesso io andare a lavorare anche subito istantaneamente un secondo partire subito flash vedere se fare debiti che cazzo di macchinistra questa macchina di merda questo che passa signore signore ha mille dollari da darmi ah no ne ho pochi anch'io eh proprio scarsissimo io faccio l'emozio qua ah è tornato signore con pelle scarpe eh signore salve salve belle scarpe complimenti grazie 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 no qualcuno ha bisogno io non so se mi troverebbe bene dimmi caro polizia ragazzi non in questa vita mi piacerebbe proprio alessio carlos grazie per il like questi qua signore con belle scarpe loro qua regalare macchina grazie 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 io ho fatto storia ricercare qualcuno qua che lavoro c'è il signor che lavora qui questo qua che sono in trenti signor white signor white dimmi c'è il ragazzo che voleva prendere macchinina prendere macchinina lei quindi io ho fatto con colpo scarpe pelle colori questo va bene vedi 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 fammi vedere voglio puri puri io lo devi prendere c'è prima il ragazzo con i capelli bianchi no ragazzi no 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 c'è prima signora con scarpe pelle questo qua vai da mangi questo a questo questo a questo qua questo può volerlo è questa qua questa qua a voler sì questa qua volerli sì ma se parte sì sì in che senso mi tagliano le gambe Amrass curiosità una gang con Alve con Alve è meglio secondo me la gang con Alve ragazzi siamo sempre più in tempo per farla Aurel grazie per il follower benvenuto grazie Alessio per il like di comprare questo moto benvenuto in famiglia Aurel grazie un applauso per te Massimo grazie per il like bello bello benvenuto in famiglia Aurel deficiente io mai c'era la costa scusa mi lavori qua mi piacere tanto in moto è qui belli lavorate qui con la maschera io ho l'aerauto gratis io bello come stai ok grazie posso chiedere a lei ti ho beccato sul ponte di Caio a terra a ferito bello si è svegliato dai miliziani ma che mettevi un favore però che cazzo ti avevano abbandonato ma c'è un baranzo capisci c'è un baranzo ovvio mi manca il cappelletto e gli occhiali oh eh si me li hanno buttati giù ma qualcuno lavora qua giuro che non guardare cazzo chiamare capire subito che io devo guardare signorina capelli rossi certo e io saprei anche chi è essere procuratrice vado a chiamarla vado a chiamarla con la capelli rossi allo buonasera belli tutto bene buonasera buonasera oh scusate ok vi ho confuso per un altro pensavo che eri otto scusami perdonami otto essere mio fratello gemello otto fratello gemello e che cazzo bello dici davvero certo conoscerò otto io si conosco otto abbiamo scambiato diverse volte delle chiacchiere era molto stanco è andato a dormire cazzo mi ha parlato anche di te oh scusate io 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 fate bravi non rompete coglioni è andato a dormire si era molto stanco ma un po' di mal di test è andato a riposarsi per domani ok 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 lei che si chiama signore questo non è che bello piacere piacere Hans ciao Hans no non è un milione sono tipo un milione io fratello lui è l'altro mio fratello io un fratello più grande eric eric schnauzer io ho messo otto che aveva dei fratelli mi aveva anche detto che uno di voi si occupava non lo so di la parte burocratica non lo so mi ha spiegato che avete un cazzo di affare avete le mani in pasta in un'azienda qualcosa del genere criptovalute non ci ho capito un cazzo bello ok noi essere persone che investiscono denaro aiutare persone a investire e guadagnare denaro ma c'è qualcosa tipo roba di banca è possibile diciamo che ci stiamo lavorando ci stiamo lavorando abbiamo molte idee adesso stiamo conoscendo i proprietari di varie attività di città per cercare di capire se vale la pena investire il nostro denaro in questo posto lei che ne pensa? conosce un pochino questa città da tanto tempo lei? ascolta io sono nato qui allo Santos ok bello lei è nativo di qui signore sì sì però capisci io non ho mai bazzicato con una collana del genere al collo non so se mi spiego beh certo signore apparteniamo a due fasce diverse ecco sì 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 proprio così ma siamo persone bello santo se ci sono le persone come me che tirano a campare in qualche modo zalbe le persone come voi che il successo l'hanno già fatto non sbaglio vuoi lavorare tutta la vita esatto sì bello che cazzo ovviamente che lo siete guadagnati nessuno dice niente diciamo che abbiamo due diversi stili di lavorare ecco sì diciamo che sì ognuno fa di propria vita proprie scelte no? è giusto quanto da piccolo ti dicevano conviene che tu studiare anche le possibilità non andavi a studiare? diciamo che la vita non mi ha riservato tante belle possibilità capisci? mio padre è venuto a mancare quando ero piccolo e mia madre ci ha tirati avanti come poteva ha dovuto aiutare quello che c'era capisci? ha dovuto aiutare la famiglia da piccolino sì 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 no prima io è zitto è zitto almeno non aver fatto il servizio militare no 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 quello no quella roba lì che cazzo devi stare attenti con il c'è in dentro sta roba non l'ho fatto essere sostegno di famiglia ma c'è una sola oppure c'è più possibile fare crescere persone in fretta questo fare crescere persone in fretta diciamo sì che siamo dovuti diventare uomini prima del tempo grande parola uomo eh sì secondo me facebook non sta mandando le notificate quel cazzo sta succedendo non lo sto capendo tu quindi non lavorare? non lo sto proprio capendo non ho capito tu prima ti hai detto dire campare per andare avanti per andare avanti bello capisci sì ah tu quindi non lavorare non ancora non c'è taglio la pagno quante anni avere lei signore? sono 25 anni bello 25 anni cosa? capire capire è arrivato ora ti iniziare magari a lavorare con il tempo vedremo magari apro un negozietto metto a vendere orologi collanine la roba qui vedremo spero di di venire a fare poi un ciro da lei comprare qualche collana io amante di collani è meglio orologi vedo 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 tutta sta roba che luccica sul suo collo e lui camminare solo rolex 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 lui è innamorato rolex ha i svizzera tanti orologi ma lui è un rolex vuoi un rolex bello no lui ne ha tanti lui collezione rolex io colleziono rolex signore si mi piace molto magari qualche volta te ne faccio vedere ne ho un paio capisci? magari mancano mia collezione e comprare volentieri e questo qui salutate intanto suo fratello la persona che con me è stata molto gentile disponibile aperta capisci? certo signore non c'è problema tipo in gamba domani domani appena lui svegliare io salutare per lei va bene signore ora che cazzo ho sfrutto questi incettivi stata e mi piglio la macchina del cazzo ci faccio ci faccio è stato un piacere bello arrivederci affidersi sento così parlare sempre con il fratello da 95 ma come cazzo essere vestito tu ma io adesso voglio dire come cazzo tu essere vestito chi dire a me autista tu dire a me tu vuole morire per davvero tu portare rispetto a me io più grande ci portare rispetto a te tu con questo maioncino non puoi tirare a lui come cazzo essere vestito questo maioncino è bellissimo tu non dire in cazzo per favore se no tagliare regola anche a te perché tu cadere fare male tagliare regola anche a te io ti sotterro in certina si ecco bravo bravo fare attenzione perché se cadere tu spaccare culo compatti dita un morso su orecchie ti faccio altro piercing no ho due e uno in naso se volere fare sopracciglio fare morso anche su sopracciglio io non ho paura starcare orecchie come tyson spiezo in due ecco quelle essere eh lui assomiglia lui assomiglia ti spiezo in due io però c'è 100 kg in meno magari lui ha testo mangiare poco perché puoi fare chiedere ma quando sono arrivato a questo posto non ho ancora trovato palestra io posso essere persona molto allenata ma chi essere quello con capelli bianchi che parla il cognota di essere un vecchio amico chiediamo bella chi essere signore quello con capelli bianchi questo chiedere no lo eviti lo eviti ma io sono un bravo soggetto signore in che senso in che senso sono grande lavoratore in tasca attualmente 1800 barattoli di tabacco ne vuole uno no cazzo non compro il tabacco signore mezzo milione è mezzo milione mezzo milione si corrisponde a mezzo milione in circa un barattolo no 1800 oh essere il grande lavoratore eh l'ho detto noi nigeriani i grandi lavoratori che cazzo se non ti si sento grande nigeriano che però ha vissuto a Napoli e fa chiamo bella vuoi chiamare lei signore curioso io gennaro cozzolino gennaro cozzolino esattamente piacere ans piacere piacere perché riter signore riter non sapere perché riter signore molto curioso spiritoso gennaro cozzolino io non essere spiritoso oh allora cagata di piccioni in testa allora chi è lei mi sembra che le ha cagato un piccione in testa cosa significa cagata di allora i piccioni mangiano dopo che mangiano i piccioni digeriscono dopo che i piccioni essere un uccello esatto uccello tu fare attenzione come può lasciare la macro e poi io prendere un uccello e metterselo in bocca e io invece mi mangio la tua testa allora tu stai esagerare sai tu prima essere un po così infatico adesso tu stai esagerare ma io sono un grande lavoratore ma l'hai presa l'auto invece di fare un grande lavoratore no la voglio prendere però ognuno mi rompe il cazzo e c'è andato Yoda allora valla prenderla hai visto come si fa cacciare senza dire neanche niente signorino essere molto maleducato segnare io educazione se no famiglia guardate che voli le cazzo che mi spazionano guardate sono per mettere parlare così con il mio fratello è il mio fratello andiamo dai andiamo a fare tabacco andiamo a fare tabacco di tabacchi allo signore ho un manichino no 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 signori 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 signore 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 salve sono l'avvocato come non lo sa signore avvocato lei davvero davvero lo so piacere Hans Schnauzer suo parere personale è un po' difficile ricordarmelo comunque buonasera ok se sbaglierà non si ricorderà di me si ricorderà la qualità l'ha affinata sì assolutamente ma è la pronuncia che sarà un po' difficile però di dove essere lei signorina dovrei ma non sono assunto per il momento non riesco a vendere ma sin da piccolina mi sono trasferita e va a dire è alta 2 metri cazzo no sono solo i tacchi hai scelto i tacchi più bassi? adesso facciamo una prova non posso aiutarti ah sì alta come me è vero? eh sì sì è tutto un inganno è tutto un inganno però essere molto per la tona complimenti grazie grazie cosa fa qua in città? noi esseri investitori signorina wow in cosa investe in particolare? tutto è naro di altre persone per favore servimi una cosa un po' particolare lavoro in banca? diciamo che ci stiamo lavorando a un progetto che banca potrebbe essere mia da un momento all'altro ottimo ottimo allora veramente ha delle grandi capacità la finanza è il nostro pane quotidiano signorina chi è che rimorchia? signorina essere avvocato penale o penale allora sperare ti non aver mai bisogno di lei signorina con tutto rispetto spero per voi spero per voi perché per i nostri investimenti servire avvocato certo certo ma comunque sia siamo comunque un centro di avvocati un gruppo di avvocati ben preparati anche se non è penale civile siamo capaci uguali ok allora può essere fare affari con avvocato assolutamente assolutamente ci trovate al 660 al civico 660 io segnare segniamo segniamo che poi passeremo sicuramente a chiedere consulenza certo grazie signorina è stato un piacere conoscermi è stato un piacere arrivederci 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 fai 5 capocchio ok siamo 5 fai 1 siamo 5 andiamo adesso ci deve essere con tutti questi 560 andare a fare tapacco andiamo a fare il tapacco che mi servono i soldini andare a fare tanti soldi porca puttana così ma tu perché salire sempre sopra mettere tu volere mettere in mezzo perché esistere cambio visto quante macchine quali adesso tutte città essere con 500 io ho preso la macchina e lì mi so beh anna mi staranno se le crede io questo stare cazzotto prima o poi questo che continua a chiamare ansele crete citare un cazzotto in mezzo agli occhi fare un centro è perfetto tu devi essere solo ansele no crete no andare a fare tabacco quindi o no tabacco tabacco ma se io fare grande solito no 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 noi faremo le vecchie citture andare a fare tabacco io voglio volere vedere vuoi che fare tabacco voglio ritere come volere vedere tu fare tabacco insieme a noi perché hanno tutte le macchine uguali praticamente per l'ingresso in città il server di grau regala una macchina a tutti quanti ragazzi chiaramente regala quella macchina lì e tutti quanti la prendono uguale tu scenderai da macchina non vieni con me io adesso ho bloccato la cittura ciao no 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 bucare ruota così no 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 non può fare piedi tu salire in macchina no 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 può salire aia salire o andare via a noi no 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 così lui può andare a spettale no non buono così tutto piano ecco no 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 ha fatto finta fatto finta adesso metti lui fare finta di essere spennuto perché tu scendere e lui può alzare non fare male lui mi aspetta al 206 tu alzare altrimenti fare veramente nuovo locale questa cortellare salire salire andare andare 206 andare 206 leggere giornalino sali 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 andare 206 veloci vai 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 offre pizza maciare birra chi è chi è sarei i t457 io 4 3 non io poi guarda eh sì adesso stiamo andando lì al 206 andiamo a vedere che una nuova attività così parliamo anche con loro sai che li mettiamo tutti sull'ibropaga cazzo che sta andando raga allora lei sta andando raga sì di vedere tanti track andiamo a vedere chi sarà qua faccio 34 fps peccato perché la mod grafica si vede da dio mi sa che devo toglierla però non penso che sia problema di mod grafica perché lo faceva anche con l'altra con la grafica normale ma non riesco a capirci un cazzo io di su pc non ci può chiamare antare 206 antare antare io ho messo gps deve avere grandi problemi di occhi eh crati a mio occhiali anche 10 crati a mio occhiali ah c'è il bar qua no 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 non volevo vorrei del cibo vorrei del cibo parlare direttamente col signore col cappello caschino ti ringrazio ti dà una brava ah scavicchino salva a tutti salva a tutti salva a tutti ti do una mano salva a tutti ti do una mano adesso ti fa birra e pizza gratis per tutti ragazzi buona sera buona sera buona sera ti do una mano ha deciso di infestire poi si si è un po' investito aspetta che passo passo un po' di cibo così passano in po' trappa ragazzi anche birra vi piace la birra rossa ragazzi passamene tipo 10 e 10 20 e 20 dai e non abbiamo anche dei frighi quindi la birra allora tutti quanti birra rossa la vogliono che via io ti do birra per me pure passami le pizze a te no ti ho dato birra a te io ti do pizze e birra allora ragazzi buonasera bella birra chiede a me allora abbiamo margillite e dobbiamo mozzarella buona birra quanto tu vuoi oltre il gratis è gratis è gratis è gratis grazie un'altra che la passo a un'altra persona anche a me per maciare come è che si chiama lei mi ripeto ci siamo conosciti ieri in tedesco io signora Hans 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 non ascolti deficienze che ha buona sera signore a chi manca la birra a me da mancare alla birra alla pizza ragazzi la birra signor bruce a me da mancare per favore non è cauta buona sera buona sera buona sera buona sera buona sera buona sera devo mangiare grazie devo mangiare pizza e birra qui gratis è tanto forte qui è una relazione altissima stiamo fuori non mi sento c'è troppo casino da mangiare che ho tanta fame scusi ma non sentivo niente lì dentro troppa gente che parlava tutta insieme io sono Allen Box signore siamo presentati ieri certo signore leghia sei ancora più buono io sono Jack piacere piacere Hans io sono appena entrato stasera in città sono arrivato con l'aereo le piace sì sì per adesso è molto molto accogliente molto bella mi sentite dica di dica ci credo che c'è da mangiare da mangiare dentro uno sì se poi grazie da mangiare dentro da bella che lo possiede tra ieri grazie bello grazie niente anche a lei signore con giubbotto di armi sì 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 lo ringrazio a vita rossa bella buono buono così come in testa così la prima sera non è molto pesante signore mi tolla passaggio la prima sera eh sì ma è tale bella potta io adesso per ma vede che non è una bella potta allora facciamoci un brindis alla salute all'amicizia all'amicizia siamo bella conosceteci signore alla vostra salute alla vostra signore madonna che potta vede venire a metere il copino forte che cazzo che pezza che è arrivata a me la botta mi è arrivata la pezza è molto forte ragazzi vi è piaciuta la birra mi piace molto buona molto buona molto buona sembra bella anche io dato che vi ha importato tutta Germania questa ho finito la birra non so che me la offre una birra siamo fanno un ciro ah come sta signor brusse eh è molto molto è la ragazza chissà se riesce a camminare se la linea per questo libro attorno ringrazio vado vado e non potrei avere signora guardi devi fare questo prima di anni vediamo se se la può fare sobra il suo lavoro solo con i miei colleghi g e non è bene ci penso non è guarda quello vestito tutto bianco sembra arrivo arrivo non mi picchiate ah 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 vieni grazie io la voglio da birra vieni per te per per tutti insieme saluti di questo bellissimo locale grazie ma di notte si vede tutto dentro si si facciamo un brindisi così così ragazzi così birra così molto bello il locale suo molto bello complimenti grazie grazie mi preoccupa giusto che se qualcuno mi vuole sparare mi potrebbe benissimo dentro perché devono sparare signore lei perché eh non si usa mai questi ragazzi senza il taglio lei è brava persona per mangiare a tutti perché dovrei sparare anzi dovrei fare statua vuole te una birra signori eh la ringrazio la ringrazio vuole te una birra eh si si birra ragazzi birra gratis birra gratis birra gratis io vedo la rossa buona questa birra rossa vedi rosso io per birra da bottiglia direttamente molto buona qua ehi ehi ciao guarda che ti innondo tutta tutta la macchina sono tutto ubriato eh si vede c'è la macchina come la mia c'è la macchina perché ti atta l'inglese guarda ci sappiamo qua è la macchina guarda eh tutto sto non è mio però funziona signor bionto signor bionto venga con me un secondo ecco me ecco me ecco me ecco me allen box signori allen box venga allen venga volevo lasciare il mio numero di telefono levare il telefono ieri ho provato a chiederglielo ma dove sono riuscito perché scappa tutti devono allontanarsi allontanati un attimo venga un attimo anche io perché sì perché sennò con airtroppo può passare il numero a tutti meno che a te come vanno le cose bene bene signore stiamo cercando di investire in questo posto investire bene le è arrivato airtroppo eh sì le posso mandare anche il mio assolutamente sì signore ok condividi è arrivato sì allen box c'è quello qui chi ha sala perfetto salvato ok anche io salvato sala lei mi sembra una persona molto seria che possa fare a casa nostra per l'eventuale futuro signore grazie mille signore lei di cosa aspettavo in questo momento di incontrare una persona come lei da tempo noi siamo investitori diciamo di denaro molto ricchi che stiamo cercando di fare un vario investimento legale in questa città per fare una cosa molto bella che ha dentro mia testa ok e vorrei convolgere alcune persone molto serie in questo progetto mio io qui essere senza amici avere solo miei fratelli può contare su di me signore molto bene molto bene mi fa molto piacere se vuole qui con me in questo istante c'è anche un mio fratellino che si è presentato prima che si chiama Jack se vuole sua persona affitata se vuole ci metto guarda Roma io vengo da Italia da Roma e ci posso mettere le palle sul fuoco Alex grazie per lei perfetto signore sulla sua fiducia perfetto noi cercare persone per fare cose molto serie molto in grande in nome di queste città però avere bisogno veramente di persone con molta discrezione capisci certo signore che cazzo essere che cazzo è questa musica non lo so non lo so le suonere di telefono no non era quella anche se ce l'ho ma non era quella allora sono quei testi di Mertar come ci organizziamo come possiamo fare come guardi io adesso in questa sera quale è la prossima mossa questa sera ho proprio parlato con persone che mi può affidare moriti un posto molto interessante che io stavo cercando da tempo per fare investimento appena avrò tutto pronto quello che devo avere pronto la chiamerò la convocherò per fare due parole in una sede molto più riservata ok le posso aiutare nel frattempo in qualche modo e purtroppo adesso in questo momento abbiamo un po' mani lecate mi devono sbloccare pochino capitali per fare determinate scese perfetto io se le posso dire una cosa il mio numero ce l'ha qualsiasi emergenza qualsiasi cosa se io sono libero e disponibile vorrò subito da lei grazie grazie signora molto gentile molto gentile io apprezzo molto la sua fiducia ma piano piano la conquisterò bene la sua fiducia non ho alcun dubbio mi è sembrata una persona molto seria disponibile da primo giorno che ho conosciuto grazie signore la mia stima è reciproca perfetto perfetto allora parleremo poi quanto sarà futuro di quello che dovremmo fare ok attendo una sua chiamata e le ripeto qualsiasi cosa sono a sua disposizione grazie tenca il telefono acceso che in questi giorni la contatterò sicuramente perfetto grazie mille signore gentilissimo grazie a lei grazie a lei ci vediamo lì intanto lei riesce a trovare persone come lei certo faccia poi un bel gruppetto che io poi la contatto a lei per tutti quanti posso chiedere una cosa certo può può parlare anche con il mio amico Jack così posso chiamare certo certo ok in teresa 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 non ci sono su questo server adesso ragazzi non so dove siamo ti lascio un minuto col signore buonasera signor Jack buonasera buonasera a lei mi dica io avrei già parlato con suo amico o fratello mi ha parlato molto bene io adesso lei non conoscere bene sì 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 lo ringrazio però mi ha parlato molto bene io avrei un bel progetto di questa città di investire molto tenaro per fare una cosa di cui è dentro mia testa ok ok e questo porterà a avere bisogno di persone molto fidate da avere nelle proprie fila ok benissimo adesso lui mi ha detto garantito che lei è una persona molto seria di cui ci si può fidare mi fa piacere che l'ha riferito questa cosa e le posso assicurare che è così nel caso poi un giorno faremo affari insieme potrà avere la possibilità di vedere lo stesso lei con gli occhi suoi perfetto perfetto parole lasciamo al vento facciamo poi i fatti va benissimo io avrei preso il numero di suo fratello in questi giorni cercherò di farmi sbloccare capitali da mio paese per investire nel mio progetto appena il progetto sarà in piedi vi chiamerò e faremo due parole in sette più separata dove lì darò tutto quello che ho dentro mia testa ok per me va benissimo la ringrazio per l'offerta grazie mille a lei grazie mi deve soltanto ricordare il suo nome Hans Schnauzer signore l'offerta Hans Schnauzer Hans ok benissimo lei ha detto da qui a poco scriveranno anche su cartelloni dc il nostro nome benissimo allora gli aspetto aggiornamenti tanto il numero comunque l'ha preso quindi va bene così perfetto perfetto cercioliamo in questi giorni grazie a lei signore per rispondere per rispondere grazie grazie oddio la transiglietta di frattarti che è successo le transigliette parlare di cacerecchina dobbiamo parcaggio non ma io avrei dovuto fare qualcosa con ai troppi che si c'è qualcuno fianco poi o tra di passare un numero a tutti ma meno che la persona che mi serve a posto anche molto tutto un po' scomoda cosa quella lì non lo schiena devono mettere la frecciolina che si può picco deciderà chi cazzo fare nomi devo parlare devo parlare poi con cigneri niente questo mangi sempre fagioli poi scorreggi come un leone hai finito di mangiare fagioli tu ha rotto i coglioni è una guerra un po' di immagini associare associare mi ha messo curiosità tutta se le mangi sti cazzo io vado a fare l'analisi per vedere la testa facciana lì a proposito dobbiamo andare anche noi a signore non aveva detto signorini non aveva detto signorini di passare poi a controllare che era tutto posto una macchina piccolina non ha reso non ha fatto adesso stare medici non lo so non lo so non lo so lungo vicino la solita nella macchina ma è la mia per fare telefono quello quello nero color quello portato color zucco ma c'è vato 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 adesso chiamare mia macchina come aver rubato macchina ma brutti pezzi di merda vato marina macchina io chiamare mia macchina chiamare dove cazzo stare con sottopi io ero bravo ma le mie macchina non è vero come chiamare applicazione auguri per il pd caraccia e bellino sto locale da è molto bello poco sangue l'ospedale scaricare applicazione vato vato quale applicazione garage vato vato artigian l'ospedale no anta attenta attestare la testa del solito che si è arrivato macchina allora ci vediamo in casa i figli occhi ecco la mia macchina non ho capito che ti occhi ecco la mia macchina attimo un attimo come cazzo se usare questa cazzo un'altra parte un po acaa 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 cilio concetto nel collo ancora vive qui stile a te questo è chiaro quanto macchina questo guau per me robato macchina scendere a mezz'è la macchina mia grande merda questa è la macchina questo è solo la macchina tu 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 la macchina mia questa chiudila prova a chiudila prova a chiudere macchina tua che cazzo schiudere tu e questa è mia macchina io questa macchina la sua la gira centrale adesso è mia sai come si dice chi va a Roma a perdere la poltrona chi va oh ah ah ma che fa io frate ma sta carcerata scusa caro scusa vero sbagliato vero sbagliato scusa sei semplicemente le palle scusa 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 non ho fatto posto scusa orchi devi scendere da questa macchina non possiamo stare così no orchi devi andare via chietta no la macchina mia compai scendere da questa macchina compai scendere da questa macchina compai scendere da questa macchina check guys una macchina vedere scendere e chiudere macchina oh ma vadovi i puffi l'hanno rubata i puffi scendere da questa macchina questa è la mia macchina signore adesso è la macchina mia caro oh lieve da un lancio cazzo questa è la macchina che tu non poter rubare cretino ah ah io lo so questa è la macchina che tu non poter rubare ti svegli o cosa dobbiamo fare da caro non potete rubare ste macchine eh aere glielo dici tu hai stare incoglionito o devo chiamare qualcuno eh caro non mi ascolto no vabbè li faccio chicà non potete rubarla le macchine binti niente non potete imitare caro in questo modo oggi non so come non leggi la targa bibbia è legge la bibbia è la mia ragazzi non piangete è una macchina grazie eh non piangete macchina grazie ma fa da poco ma fa da poco zitto ma fa da poco zitto ma scappa scappa a piccolare di scappa scappa piccolare di basta o cucciola scappa cucciola che se lo dirò un po grazie r no no oh adesso l'arma no sali sali avere rimettato macchina vista macchina a fumare però io chiedo gli occhi ora ma notte dove andare a chiedere gli occhi no voglio leggere la strada non no si si ma vero si si poi ruba la macchina domani ti accompagnare torre se vuoi ehm è il 95 allora che c'è la macchina c'è la macchina 95 devo passare questa macchina po perchè perchè questa io potrei chiudere quella no eh allora anche pure senza mentire bisogna portarla alla torre aveva detto coso dove cazzo è questa torre 95 torre non è 95 no torre 206 dove volete dove volete 209 209 andare provare a vedere se arrivare essere completamente senza pensierina questa cazzo è una macchina ecco la mia macchina ma dove cazzo essere parking qua qui ecco fatta quello non essere macchina blitz franzois notte franzois notte che cazzo ha fatto problemino problemino mannaggia al cazzo si è andato in faccia al muro lui non cintura aiuto che cazzo avere fatto? sto dentro la macchina eh io non poter aiutare purtroppo poter solo portare all'ospedale per adesso le ho fatto vedere se funziona questa cosa ma non so Ah, fissore, scarica l'app, caraggia Eh, l'ho fatta, prova, PC Man, è bellissimo Ah, Pac-Man, è figo, sì Non avere strumenti attatti E non avere sacchi sangue per aiutare questo qua Vado a ospedale ai piedi Ecco, facciamo così Ah Ah Portare l'ospedale, dai Autista Lui a riparare e chiamare autista lui Autista Autista Salire, salire Adesso l'ho a riparare, autista Che avere porta aperta, io? Sì, sta, vedi? Aspettare dall'altra parte Ah, allora io ricordare bene, poi ho sbagliato Avanti testa, avanti testa, qua qui testa Adesso con edifici nuovi, io non ricordare Io qui tento a mettere troppo chiara luce A non mettere un cazzo di niente Dove cazzo mettere per aiutare qua? Non esserci nessuno qui? E come cazzo facciamo? Ah, che ti sei? Cinco d'altra Aspettare se funzionare Cinco d'altra Cinco d'altra, è vero? Sì Che due coglioni sta cosa Con i poteri che non mi danno Mannaggia il cazzo Non mangiare i faccioli Dove cazzo sarei finito? Non mettere più io Manco io Eh? Dove fai? Tu mancare via Tutto terra Fai bring cinque Io non avere poteri Porco disco volante Come no? No Vabbè Dove cazzo è finito adesso? Eh Sotto terra di solito Quanto portare qua il spettacolo E andare a finire sotto terra Come sotto terra? Sì Tutti qua a chiamare tipo Pac Francois Dove cazzo è ser finito? No A festa da sorda Salve Salve Buon salve signore Buon salve Salve Eh Non c'è un medico Eh no Tu portare direttamente il cimitero amico Tu Perché qua tutta la gente E andare via Ah no Non mettere neanche il ciu per terra Perché finisci sotto terra Non trovare più Amico Mio Poi cattolino E non c'è più Ah e non c'è Come un coso Per autocurarsi O qualcosa Eh no Non c'era Non c'era Non vedere Un momento non vedere Provare a fare Muscoletto Slash Assistenza Amico Ok Proviamo Poi Prova a fare Dove cazzo è essere finito? Andare Non sapere Andare Andare Si vanno anche lui Andare Andare Non aprire ancora porta Aia Settino Tu non aprire ancora porta Vedi Perché tu Chiamato autista a me Apri Apri E tu Se ti togli Dove essere Francois 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 Tu non potrai mai Entrare Ecco Adesso E c'è ancora Macchina di merda Devo cambiare anche Muscoletto Vai Salire Salire No Aspetta Spaccare Io Spaccare Vai Salire Dove cazzo Sei l'autista Dietro Come cazzo L'autista Dietro Sei dovuta Dietro Oh Dove Formare Macchina Tua Ma hai Direto Il cazzo Che Sono L'autista Dove Andare Dove Che cazzo Andare Andare A trovare Qualche Signorina Per Porco L'autista Qua dietro No Al massimo Io Trovare Per voi Dio Avere Visto Procuratrice Rossa Alte Due Metri V'essere Venuto Parzottino Poliziai Lascia Qui Lascia Lì Vai Via 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 Polizia Quanto Che Essere Don Nace Come Qui Essere Donnace Qua Dentro In che Senso Donnace Mi Scusi Ballerine Quelle Che Fare Vedere Culo Penso Da Domani Domani Fare Vedere Culo No Domani Ci Sono Le Ballerine E Oggi Tu Potere Far Vedere Vuole Far Vedere Culo Tu Potere Fare Vedere Culo Ah Ok Non Volere Vedere Culo E Se Io Chiedere A Lei Documenti E Chiedere Un attimo Anche I Colleghi E Fare Un Giretto In Centrale No 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 Direi Che Stiamo Scherzando No Scherzare No Scherzare Assolutamente Assolutamente Molto Bene Molto Bene Perché Hai Polizziato In Servizio Ha Scritto Polizzi Davanti Che Cazzo Che Sia Io Io Vedere Solo Culi Per Questo Capire Solo Vedere Culi 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 Capisco Nel mio paese Vedere Tanti Culi Io Pensare Che Anche Qui Vedere Culi Di Dove Lei Scusi Io Svizzera Io Tetesco Di Svizzera No No Via Ci Sono Tante Chiappe Lì Lì Lucano Lucano Ma è stato Lucano Ma è stato Lucano No La Casa De Sesso Tutto Legale Lì 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 Giusto Segna Lucano Lucano Culi 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 Brasile Cessere Locale Chiamare Iceberg Molto Bello Molto Bello Iceberg Ok Perfetto Non andare Su punta Perché Lì Fare Tanto Male Su Cuta In che Senso No Punta 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 L'iceberg Ok Perché Lì Pericoloso Direi Di Sì No Non Si Preview Non Mi Piaccia La Punta Quindi No Poi Lì Essere Anche Molte Tette Capire Tette Certo Tette 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 Tante Tette Dove c'è un culo c'è anche una tette Due Di Tette Dove c'è un calibrino Capire Two Two � Cira Due Come dire voi Due 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 Capire No Allora Perché Ripete A me No No Perché Io Sono Sono São Spagnol in realtà. Ah, aspettando, è capire io. Tu spagnolo? Sì, sì. È grande spagnolo. Eh, gli spagnoli migliori però. Anche gli spagnoli è bello, gli spagnoli è molto bello. Eh sì, gli spagnoli, gli cubani, i vassiniani, tutto latinoamericano è meglio. Tutto il culo migliore, sì. Colore e pelle è molto bello, non bianco come noi che è latte. Ah, esatto, esatto. Vuoi essere, guarda, con tutto il bianco, noi cataveri. Il più bello culo colorante. Tu cataveri. Tu cataveri, tu cataveri. Tu cataveri. Comunque mi farei un giretto verso il Flamengo, lì, Flamingo, come si chiama. Vuoi vedere culi? Eh, boh, qualche culetto c'era oggi. Sì, c'era, c'era. Tu venire con noi? Venire con noi? No, non posso, non posso, signor. Vuoi vedere culi? In servizio, in servizio, signor. Sono in servizio, non posso. Ah, a quartare, cosa? Cosa? E portare in segno? No, no, sto controllando che ci siano tutti i permessi per poter aprire il vanilla domani. Ah, controlli anche permesso per panca, per favore, signore, poi, se lei ha un momentino, eh. Sì. Effettivamente noi continuiamo a girare come cani senza balle. Eh, senza porre cazzo cercare solutette. Ah, esatto, esatto. Purtroppo è una vera attività. Da domani le avrete, ho conosciuto le proprietarie, future proprietarie, quindi... No, perché vuoi capire quali si acchiappare noi e arrestare per domani. Deve continuare così. Deve continuare a cerare così come mertano i tubi, capisci? Lei, lei, lei deve comunque prendersi un caffè con me domani. Eh, così parliamo un attimo di panca. Adesso non ho caffè? Bene, 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 molto bene, sì. Di panca, parlarti uffici di panca, di tutto. Devo parlare con lei, assolutamente. Ora proprio la mia mente è molto stanca. No, domani, domani, bene, domani, molto bene. Eh, fratello, tu domani essere libero, io lavorare, eh? No, essere libero, io essere libero, sì, sì, sì. Eh, io lavorare libero. Quanto signore essere libero, architetto, essere libero, io andare a vedere. A che ora, signore? Eh, quando le mette bene anche lei? Faccio, faccio, ciro in caffetteria. Quando la trovo seduta lì tranquillo che beve caffè, arrivo, eh? Va bene, va bene. Tanto il civico lo sa. Il civico conosce. Ma tu conoscerai il civico di caffetteria? Io? Io no. Hanno chiesto, è una volta. Il civico di caffetteria, iaia. Hai sentito la storia. Iaia. Io avrei sentito la storia metropolitana. Penso che sarei vera. Pensate qui in città di dire quale è civico la caffetteria? Sì, sì, si tramanda da parecchie generazioni. Sì, sì, avrei sentito anche io questa storia. Qual è l'essere civico? Quando gli hanno detto, entriamo in caffetteria, gli hanno chiesto dove essere civico di caffetteria. Eh, ho capito, qual è l'essere? E lì secondo me ha fatto tremendamente puff. Ah, capire. Però, spero. Ah, è il Peterson, signore. Noi andare, allora. La lasciamo sul lavoro. Ah, ho il Peterson. Ah, ho il Peterson. Ah, ho il Peterson. Peterson, Peterson. Chi è il Peterson? Sta il Peterson. Arrivederci, arrivederci. Ah, ho capito che sta lì, il Peterson. Ah, ho capito, ciao. No, no, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Molto simpatico, porca. Simpatico, signora, sì. Non avere mai visto tette, secondo me, signora. Perché tua macchina fuma? Perché fuma? Oh, ma io vedere fumo dietro. Tu avere visto tette? Dietro? Lui ha visto solo tette di pampola con fabbile. Lui ha visto solo tette di mamma quando prendeva la latte. Porco maiale. Ancora vent'anni e lui ci ciava tette di mamma, sto schifoso. Gli ricordo, eh? Eh, sì. Mamma avere grande tette, cross tette. Sì, anche la casa, anche la casa. Domani, ragazzi, andremo anche noi in caffetteria. Abbiamo fatto smaltire un pochino prima tutti i player, tra virgolette. E poi domani arriviamo anche noi a prendere qualcosina che è giusto che ci diano poi qualcosa anche a noi. Se no, diventa poi monotono girare così, cavolo, per la città. Vedere quale villetta qua sul laco? Cosa? Vedere villetta qua sul laco? Quale villetta qua? Quattieri? Questi quartieri dove tagliano colla? Testa, ti merda. No, allora io girare dietro e non guardare. Tare via, stare via. A me colla servirà ancora, ya? Qui avere solo autista che può picchiare un po' forte. Ma non avere pistola, quindi non fare niente. Venite in assistenza ora. Con chi c'è la crab? Venite in assistenza. C'è la crab incazzatissima. Minchia? Ho mai visto scherzo sul giornalino. Manco io. Venite subito in assistenza. Ma chi? Mi dissocio, non si può bannare Alve. Chi è che ha bannato Alve? Non ne posso... Cosa vuol dire? Ma dove l'ha scritta? Ah, nella cosa dell'assistenza. Questa è la che puoi guardare solo tu, staff. No, c'è scritto lì, nell'annuncio. Mi dissocio, non si può bannare Alve. Eh, non l'ho lega. Ah, ma sopra forza. Ah, no, sopra, sì. 647. Non si può bannare Alve. Il cazzo sta succedendo. Vedere qua dentro se essere persone? No, con la macchina non ci sono. Ma che cazzo succede al Discord? Non ci sono mai affari? Vedo a correre, vedete. Signorina, signorina. Ciao. Ma tu stare fumando? Io? Mmh. Io no. Fumi da testa, fumi da testa. Come fumo da testa? Fumi da testa, pensieri? Io cambiare muscoletto per ratio. Aspetto. Dove avere voi ratio? K. Mutare. No, mutare, parlare. Parlare? Topolino. Check. Allora io metterò anche io per rati. Gio, bello, grazie per il like. Bello mio, benvenuto. Come stai? Qua tutti abusivi, Gio. Non ce n'è più uno che passa e lascia un like. Paolo! Bello mio, grazie per il like. Niente ragazzi, comunque stiamo facendo pochi, 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 pochi like. Non so come mai non interagite più con me. Vabbè, io tierei a andare quasi a dormire, eh. Avere rotto i coglioni. Vieni in torre, in quella casca abbiamo trovato. Gia, e se alve, signore, lì scopare con donna? Cazzo, non vuoi mica vedere noi. Andiamo a buttare giù da torre. Aspettate, non premete macchina, non premete. Tanto hanno bannato, alve. No, no, non aprire, non aprire. Entrare, ok. Entrare, entrate. Tu fumare macchina? Tu fumare troppo, ya? Io fumare macchina, tu non scassare minchia. Ecco, da, attento. Bucare tappezzeria, io bucare testa. Io bruciare sedile a te. Ecc. Io ho mangiato a ragossa in macchina. Hai messo a ragossa in tasca? No, l'avevo messo nel pauletto che si teneva bella calda. Pauletto porta a ragossa. No, è buono, è buono. Mi pare questa cosa, perché non si può più sapere quante abitanti esserci città. Io avrei finito la sigaretta. Ah, buono. No, no, male. Entrare. Non avere più occhiali, perché stronti di autista avrei rotto occhiali miei. Autista di merda. Bella, mauri. Ciao, bello. Grazie mille per il like. Benvenito. Andare giù. Vedere qua, che bella. Oh, scusa. Tranquillo, tranquillo. Tanto mi avete già fatto saltare occhiali questo stronti di autista. Io volevo provare a rompere il vetro. Non ho lasciato niente. La terra è essere occhiali. Dovevo aprire questo inventario? Ah, sedere qua un attimo. Vorrei togliere questa ciacca che c'è molto caldo. Ah, qui essere inventari? Ah, questa è no casa nostra. Non casa nostra, no. E che cos'è qua? Perché non aprire il vetro? Perché andare a frattare giù, casa? Allora. Cazzo è che sono al telep... Ma? Cazzo fai... Era un siediti. Mi dissociara. Eh, non era un siediti. E come cazzo hai fatto? Sit chair 3. Perché non ce l'ho io nell'animazione? Oh, Shazzy, venire giù, venire giù. Letto a tre posti. Ah, vabbè. Anche così non è male. Tre posti, letto. Letto a tre posti. Voglio fare due parole qui, tranquillo. Buonasera, Merone. Buonasera, Kerole. Bentornato. Come stai? Un po' che non posso salutarci. Tutto bene? Che mi dici? Beh. Speriamo che domani ingegneri lì, cazzo di... Come cazzo chiamare loro? Architetti? Ci sistemano tutto pezzo di banca che stasera ci hanno dato, che secondo me è essere una bomba. Tu ho parlato con un amico tuo qua autista, che fare anche guardia giurata, oltre autista? Lui essere mia, quartia personale. Ah, ok. Per essere autista. Giusto? Aspetta. Ecco, testo devo parlare autista. Ah, non esce, vedi. Ha fatto con testa, sì. Mm-mm. Ah, io ho visto testa, no. Vuoi avere tic? E io ho visto testa, sì. Tua madre avere tic. Mi dissociare. Tic, gratte tic. Dobbiamo cercare di fare qualcosa di unico, ragazzi. Abbiamo un'idea... Io ero prima qua avere usato a quarta, Ciampè. Come chiamare questo? Bong. Ciampè, Ciampò è quello personale, Ciampè. Che c'è essere Ciampè? Ciampè? Tamburo. Per suonare. Ciao, bene, grazie. È mancato da un po'. Narghile? Anche lei può fumare... Grazie, grazie, che ero. Sei un grande tu, bello mio. Ti è mancato da un po', ma tanto ti si è perso poco, eh. Abbiamo appena iniziato questa nuova storia sulla V4 di Gravo. Vedi, su un altro c'è il simbolo nuovo. E sono due o tre giorni, che adesso iniziamo a ruolare poi come si deve, piano piano. Bravo, tu fare venire tonnaccio qua, eh? No, non c'è. Andiamo cercando di fare una nuova storia. Non c'è essere. Una storia molto bella, dove vedrete piano piano i vari percorsi che sceglieremo, ma... Che faria, sì? Ah, good. E domani stare a vanilla? Io no, passare magari dopo poi, altro giorno, perché tanto se no puoi prendere il numero di chiunque. No, io adesso pensare a fare soldi, tanti soldi. O comprare tutto. Fare soldi insieme a me, insieme a Hans, poi dopo comprare tutte le donnacce che volere tu. Oppure io direttamente prendere il numero e poi portare a casa. Bravo, grande farti, grande orcia, solo tonne. No, 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 tu fare orcia, io prendere una, portare con me da solo. Nessuna orcia, non piacere orcia. E te fare schifo per vedere venuto? Sì. Guarda, devo essere bello muscoloso. No, tu non spogliare perché io... Guarda che mutante coricidi io. Spero io non sapere come togliere i pantaloni senza scarpe. Adesso avere infratito. Guarda fratello, io avere infratito. In questa casa ho trovato infratito, fratello. Se togli scarpe metti infratito, sì. Ah, cool. Io sarei proprio scalzo? Io avevo le scarpe più pelletti tutti, come sempre, guarda che bella. Tu ha un mutante uguale mia con i quaricini? Yeah, yeah. Good. Fa venire, Teresina. Non piacere fare oggi come? No. Io adesso stare a pensare a già progetto futuro, c'ho una testa che mi sta scoppiando. Grande, benvenuti, numero uno, ma c'è ancora ombra con te. Prossima settimana rientro. Allora? Anche io in città. Grande, Mauri. No, io non sono... Che cazzo? Ma che cazzo è? Lui pensare a futuro, vedi? Ma io non ho schiacciato un cazzo, ma perché sto facendo questo? Perché sto facendo questo? Eeeh... Sta pensando in futuro. Guarda com'è contento a pensare in futuro. Guarda, noi quanto avere tanti soldi... Noi a pensare tanto, guarda. Puoi smettere di parlare perché fai ridere. Come cazzo fare? Muscoletto X. Ma già cazzo... Puoi amare muscoletto, vedi? E finire parlare. Faffanculo, ma perché mi sono messo a parlare? Io non volevo parlare. Stavo follando e uscire la pelle. Sono trovato a parlare Kanka Style. Puoi essere molto contento, io? A me ti raccomando non valido mi avere rotti i coglioni, mo cacchi, te sono a stramuerten. Guarda che culo che c'ho, fratello, eh? Sì, ma tu scusa, tu essere ricco o avere solo collana? Guardate, io avere orecchini d'oro, avere piercing d'oro... Ti cura che essere oro, quello è bucciotteria. Questa sai cosa essere? No, no, essere oro. Poi i pantaloni Louis Vuitton? Quella è la cintura della spiaggia. Questa cintura, tutti diamanti, due filetti diamanti, puoi comprare attico. Non credo. Puoi comprare cintura da 108 dollari, caccati. Con mezza pietra di questi compri tutto quel che hai tosso. Comunque io. Sono coscienza di comprare cintura da 10 dollari che tu vuoi avere finta. Io avevo un culo fantastico, guarda. E con quel culo lui comprare tutta città. Con questo culo comprare tutta città. Lui consiglio avere fatto soldi, eh? Lui fare soldi con quel culo. Guarda tua mira, vaffanculo, guarda, c'è cazzo. Il costrato arabo, lui, dare cammelli. Che cazzo devi andare tu? Andare giù, letto a tre piazze. Eh? Guardare il letto a tre piazze giù. E' diventato matto. Perché non salire sul letto? Minchia. Guarda che musato che preso. Ecco, non fa salire il letto. Ecco. Come ci si mette con tipo le mani nella cintura? Non mi ricordo. Ma a me me lo chiedi. Andiamo bene. Io ti ammiro tutto il contatto. L'hai fatto prima, quando ti sei messo a fare la foto? Dormire, Matt? Boh, non riesco a trarmi per dormire. Sempre guardia io. Allora, ragazzacci, che dirvi? Dai, è stata una bella serata anche stasera. Qualcosa ne abbiamo combinato? Pochi like, ragazzi. Poca gente in live. Non so come mai. Se è Facebook che rompe il cazzo e non sta spammando più niente il canale. O è proprio la gente che sta facendo altro. Non lo so. Domani sera dobbiamo cercare di risolvere questa cosa. Io spero che domani pomeriggio, ragazzi, riuscirò a entrare in città. Perché devo risolvere il fatto di farmi dare le attività e tutto. Avuto tutto. Se riesco fare una live di pomeriggio che vi presenterò la casa, la banca, gli uffici, tutto quello che concerne, quello che ci dobbiamo prendere. Fatto questo, spero di riuscire a stare una bella live. Buonanotte, Andrea. Buonanotte, amore mio. Grazie di essere qui sempre. E niente. Detto questo, ragazzi, me ne vado a dormire anche io. Perché sono un po' stanco. E da domani si riparte. Vediamo se riusciamo già da domani. Se non massimo da dopodomani. Live pomeriggio e sera. GTRP V4. Grausity, ragazzi. Siamo sempre qua. Il principe. Anzi, Hammer, suggero. Però il principe Hans mi piace. Non lo so. Voi preferite il principe oppure Hammer, di nuovo? Io direi Hammer. Io direi Hammer. Mi piace molto Hammer, come... Con la maschera. Hammer, svizzero. Hammer. Bello, ci sta. Rimaniamo su Hammer. Buonanotte a tutti, belli miei. Vi do un bacio, un abbraccio. Ci vediamo domani in live. A domani.